Bene, allora io prosado, buongiorno a tutti e tutte, sono Maria Sole Piccioli, referente Education di Action ed Italia, che ha curato questo strand per il toolkit della Fondazione Monte dei Paschi e con me oggi ci saranno Rebecca e Giulia, che vedrete in un secondo momento, insieme a loro affronteremo tutti i moduli contenuti all'interno del toolkit per la quarta elementare, quindi nello strand diritti civili. Se mi date un attimo inizio a condividere una presentazione, innanzitutto ecco, solo una questione diciamo più organizzativa e logistica, noi ci organizzeremo dedicando ad ogni coppia di moduli circa mezz'ora, quindi all'interno di ogni mezz'ora, ogni due moduli daremo spazio per le domande. Ovviamente sentitevi liberi e liberi di scrivere domande all'interno della chat, oppure alla fine di ogni 25 minuti lasceremo 5 minuti delle domande anche a voce, quindi se volete prendere parola prenotatevi pure e cercheremo di aiutarci per seguire il flusso delle domande. Lo faremo ogni due moduli, perché in generale due moduli sono dedicati ognuno ad un argomento, quindi ci sembra coerente farlo così. Alle 16 abbiamo pensato di fare una breve pausa di un quarto d'ora, così per prendere un caffè e rinfrescarci, purtroppo non possiamo farlo insieme, però ecco, abbiamo pensato di avere a metà delle ore di formazione una pausa di un quarto d'ora, se eventualmente chiaramente ci fossero delle esigenze diverse fateci sapere, però questa è la modalità che abbiamo ritenuto più opportuno invece di darci 5 minuti ogni tot, perché almeno un quarto d'ora abbiamo il tempo di fare il necessario. Io inizio a presentarvi appunto la nostra organizzazione, che forse conoscete già, Action Aid Italia fa parte di una federazione internazionale, all'incirca presente in oltre 45 paesi, quindi in tutti i continenti del mondo. Abbiamo un segretariato internazionale che è in Sudafrica, quindi la nostra testa è a sud, ciò significa che la strategia internazionale viene concepita soprattutto nei paesi dove l'organizzazione è più presente e ha più bisogno. Qual è la mission dell'organizzazione? L'organizzazione è quella di assipurare una vita piena, dignitosa e giusta nel rispetto dei diritti di ognuno ed ognuna. Lavorando in particolare con dei target specifici che sono in primis le donne, che sicuramente sono tra i soggetti che vengono legati molto più spesso ai propri diritti, e i bambini e le bambine e gli adolescenti e giovani. Questo perché il nostro futuro si basa proprio sui più giovani, quindi in tutti i paesi cerchiamo proprio di dare una priorità ai diritti dei ragazzi e dei bambini. Sicuramente ciò che ci caratterizza, come altre ONG ovviamente, è quello di lavorare al fianco delle comunità più vulnerabili e ci piace lavorare con le comunità, quindi anche il lavoro fatto di supporto e di sostegno alla singola persona si inserisce all'interno di un lavoro di sviluppo di comunità per far sì che più persone possibili possano beneficiare delle attività e degli investimenti che vengono fatti da Action Aid. Il nostro approccio è basato sui diritti, quindi in primis ci sono i diritti sia umani, ma poi vedremo con i civili e politici di una persona, e tendenzialmente lavoriamo moltissimo sull'empowerment delle persone, quindi sul far sì che non soltanto ricevano un aiuto immediato per esplitare i loro bisogni, ma soprattutto che acquisiscano quelle competenze e quella consapevolezza sui propri diritti in maniera tale da andarle a richiedere chiaramente alle proprie istituzioni. La nostra storia nasciamo negli anni 70, diciamo come tante ONG internazionali nasciamo a Londra, in Italia però siamo presenti diciamo dagli anni 80 proprio da un'organizzazione italiana che si chiamava Azione Aiuto, quindi siamo radicate in Italia, comunque le nostre radici sono profondamente italiane. Soprattutto nell'ultimo decennio Action Aid è diventata una federazione sempre più forte e soprattutto in Italia da dieci anni abbiamo iniziato un lavoro di progettazione sociale anche sul suolo italiano, quindi se prima ci dedicavamo, tutti i nostri investimenti erano dedicati allo sviluppo nei paesi del cosiddetto sud del mondo, quindi nei paesi in via di sviluppo, ad oggi invece Action Aid è presente in molte regioni italiane con tante progettazioni sempre con un target su donne, su giovani e bambini e anche su migranti. I nostri pilastri dell'azione soprattutto italiana sono tre, lavoriamo assolutamente per proteggere, difendere e promuovere i diritti umani, soprattutto appunto con i giovani, donne e migranti ed affrontare tutti gli aspetti che possano aiutare a contrastare l'esclusione sociale. Promuoviamo quella che è l'equità e la giustizia economica, quindi cercando nei territori dove lavoriamo di migliorare la redistribuzione delle risorse e quindi avviare delle progettazioni contrasto alla povertà, alla copertà economica, alla povertà educativa e trasversalmente lavoriamo moltissimo sulla partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine. Per noi la partecipazione come dicevo anche prima è fondamentale perché senza la partecipazione ovviamente un oggi e un domani una persona, una comunità non potranno mai rimenticare i propri diritti di fronte alle istituzioni sia locali sia nazionali. Quindi cerchiamo di lavorare anche per esempio moltissimo nelle scuole proprio per far crescere una coscienza civica e per promuovere la partecipazione. Come abbiamo detto prima i nostri pilastri sono tre però andando ancora più nello specifico abbiamo un programma sui diritti delle donne, quindi di contrasto alla violenza di genere, lavoriamo sulle emergenze e in particolare in Italia lavoriamo moltissimo sulle emergenze derivate soprattutto dai terremoti degli ultimi anni nel centro Italia, quindi supportiamo le persone soprattutto nella ricostruzione a far sì che possano partecipare ai processi di ricostruzione e che la ricostruzione sia equa, lavoriamo sull'accesso alla terra e sull'alimentazione sostenibile e abbiamo tutto un programma education quindi per promuovere l'istruzione di qualità e la mobilitazione e la partecipazione dei giovani. In particolare andando sul programma education e di contrasto delle diseguaglianze educative i nostri focus sono tre e il primo è sicuramente il contrasto della violenza tra pari e di genere a scuola, quindi lavoriamo in tutti i gradi di scuola sia per contrastare in primis gli stereotipi di genere e in secondo luogo per far sì che ogni istituto scolastico possa adottare delle procedure proprio di prevenzione e di gestione della violenza tra pari di genere. Questo nostro focus chiaramente ci deriva da una forte esperienza come avrete visto prima sui diritti delle donne ma ovviamente per noi questo tema è un tema che affrontiamo in maniera intersezionale quindi andiamo a vedere su tutte le persone quali sono diciamo le cause della violenza che spesso e volentieri purtroppo derivano diciamo da caratteristiche fisiche, da abilità e inabilità fisiche, dalla propria identità di genere o dall'orientamento sessuale, dal fatto chiaramente di essere donne, le donne in primis sono diciamo purtroppo vittime di violenza. La seconda è la promozione della partecipazione dei ragazzi e delle ragazze sia in ogni scuola quindi ai processi diciamo di governance scolastica soprattutto nelle scuole superiori, sia però una partecipazione che possa essere alimentata quotidianamente proprio nelle pratiche didattiche. Quindi lavoriamo tantissimo con docenti di tutti i gradi scolastici proprio per anche nell'educazione civica implementare queste pratiche. Il terzo focus è il contrasto, la prevenzione e la dispersione scolastica tramite sia pratiche di orientamento integrato quindi supportiamo le scuole proprio nell'implementare azioni di orientamento alla vita e al benessere di studenti e di studentesse lavorando al fianco dei docenti, dei genitori e ovviamente di studenti e studentesse in primis. Abbiamo anche un focus proprio per contrastare la dispersione tramite la partecipazione quindi siamo fortemente convinti e devo dire che il risultato delle nostre progettualità lo dimostrano che aumentando e rafforzando tutti quelli che sono gli strumenti di partecipazione si riduce anche la dispersione scolastica perché parallelamente si lavora proprio sul benessere del ragazzo, della ragazza Argischio all'interno ovviamente della scuola e della comunità educante. Veniamo nel concreto al lavoro che Action Aid per il secondo anno abbiamo fatto all'interno del toolkit della guardia elementare, noi ci siamo occupati prevalentemente dello strand diritti civili. i diritti civili sono i diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico come fondamentali inviolabili e rinunciabili quindi quando si dice inviolabili e rinunciabili si fa rivenimento al fatto che non sono suscettibili di repressione o compressione da parte dell'istituzione quindi del governo e assicurano all'individuo quelle che sono le libertà individuali ovviamente sempre in connessione del contesto diciamo della comunità di riferimento in cui si trovano quindi le proprie libertà individuali che non devono in qualche modo contrastare le libertà individuali di altri. Sono i diritti cosiddetti di prima generazione perché sono stati i primi ad essere in qualche modo riconosciuti sia in ambito internazionale quindi dalle varie convenzioni dell'ONU sia in generale dalle costituzioni di ciascun paese. Insieme ai diritti civili sono presenti anche i diritti politici. Tra i diritti civili troviamo per esempio la libertà di espressione e il diritto all'ascolto che troveremo diciamo esplicati e approfonditi anche all'interno del toolkit. Come è organizzato diciamo lo strand diritti civili troverete all'interno del toolkit 10 moduli i moduli dal 21 al 30 e come accennavo prima abbiamo deciso di dedicare ogni coppia di moduli ad un diciamo tema in particolare. Questo perché chiaramente i moduli sono organizzati in modulo di base e in modulo di consolidamento quindi diciamo che nel modulo di base si dà un overview generale sul tema, sull'argomento dei due moduli e poi nel modulo di consolidamento c'è un modo di approfondire sia il tema ma anche attraverso le attività didattiche e chiaramente di in qualche modo di incamerarlo maggiormente attraverso appunto le attività o gli esercizi dedicati. I moduli 21 e 22 che verranno trattati da me subito dopo sono incentrati sulla convenzione ONU che sicuramente conoscerete sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questa scelta è stata chiaramente una scelta strategica che abbiamo fatto perché essendo i e le beneficiari dei moduli ovviamente bambini e bambine della quarta elementare ci sembrava assolutamente prioritario parla a loro delle convenzioni internazionali a loro dedicate e quindi del primario interesse e assolutamente sui ragazzi e sulle ragazze che a livello internazionale diciamo si promuove ogni giorno. Scendendo ovviamente da 21 al 22, il 23 e il 24 sono dedicati al diritto all'ascolto e alla partecipazione. Sempre con un focus sui diritti dei bambini e dei ragazzi. Questa scelta chiaramente è fatta anche perché in questo modo reputiamo sia più diciamo facile in qualche modo capire essendo più vicini al mondo delle ragazze e delle ragazze di cosa si sta parlando. E Rebecca vi appunto esporrà e vi presenterà i due moduli. Il modulo 25 e 26 tratterà un tema estremamente importante nei diritti civili che è il diritto alla cittadinanza. Quindi lo farà in un modo tale da ovviamente parlare sia a chi ha la cittadinanza in Italia sia a chi non l'ha. I moduli 27 e 28 tratteranno il tema del diritto all'istruzione. Abbiamo scelto chiaramente di uscire fuori dai diritti civili e trattare un diritto sociale perché chiaramente il diritto all'istruzione è molto sentito e molto vicino ai ragazzi e alle ragazze. Il modulo 29 e 30 tratterà invece il diritto alla non discriminazione. All'interno del diritto alla non discriminazione abbiamo scelto anche qui di fare un focus diciamo sul contrasto soprattutto degli stereotipi di genere. Dal modulo quindi 23 e 24 avrete Rebecca Rotondi che vi parlerà dei moduli, invece dal 27 e 28 avrete Giulia Arosio che prenderà la parola, quindi le colleghe che sono più esperte su questi temi. Ora se mi date un attimo soltanto passo alla seconda presentazione se eventualmente ci fossero delle brevi domande da affrontare come overview diciamo del toolkit non esitate a scrivere oppure ad alzare la mano. Eventualmente controllo la chat. Non vedo domande quindi io procederei andrei avanti. Passando direttamente alla presentazione diciamo dei primi due moduli che come abbiamo già introdotto sono dedicati alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Sicuramente sarete tutti e tutte sul pezzo però nostro avviso è sempre molto utile ricordarci e poi per poi ricordare i ragazzi e le ragazze e affrontarlo con loro come nasce questa convenzione, i motivi e quali sono i principi diciamo alla base della convenzione. La convenzione nasce alla fine degli anni 80 quindi direttamente nell'89 da espressione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che per la prima volta diciamo a livello internazionale ma poi sicuramente anche a livello nazionale riconosce in maniera integrata ed olistica tutti i bambini e le bambine come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. La convenzione si rivolge sia ai bambini sia agli adolescenti quindi diciamo che in generale sono comprensivi fin dalla nascita si gode diciamo di diretti fino diciamo alla maggiorità. Ovviamente alla maggiorità si rientra poi nella convenzione dei diritti umani a livello internazionale. La convenzione è un documento abbastanza integrato, è articolato diciamo in 54 articoli e diciamo in relativi sotto articoli e subito dopo la ratificazione a livello internazionale ovviamente si è promossa la ratificazione a livello nazionale. Quindi 196 governi ad oggi l'hanno ratificata e ovviamente si sono presi la responsabilità non soltanto di ratificarla ma di adattare le proprie legislazioni nazionali ai principi della convenzione ONU. Mi preme dire che soprattutto l'adattamento delle legislazioni nazionali e quindi a partire dalla Costituzione poi alle leggi è chiaramente un processo diciamo più lungo e in evoluzione. Ciò significa che anche per esempio l'Italia ancora ad oggi non ha tutto il proprio ordinamento legislativo adattato alla convenzione. Quindi questo è un processo che chiaramente prende anni ed anni. Il lavoro dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite però sulla convenzione sui diritti dei ragazzi e delle ragazze non è finito lì perché si sono aggiunti negli anni dei protocolli facoltativi. Quindi nel 2000 e nel 2011 precisamente sono stati introdotti dei protocolli facoltativi sulle tematiche dei bambini in guerra, sfruttamento sessuale e la procedura di reclamo. In particolare quello sulla procedura di reclamo è interessante perché la convenzione non aveva per esempio leggerato su come e quanto fosse possibile per ragazzi e ragazze reclamare i propri diritti pur essendo minorenni. Quindi la procedura di reclamo in realtà è molto interessante perché in qualche modo obbliga gli stati a mettere in atto delle procedure, ovviamente c'è il friendly e vicino a ragazzi e ragazze, in maniera tale che possano in autonomia reclamare i propri diritti oppure chiaramente denunciare ad esempio degli abusi e così via. Anche questa tipologia ovviamente di processo è molto lunga poi da inserire nelle legislazioni nazionali. Cosa ancora più interessante è vedere i principi fondamentali della convenzione che sono la non discriminazione, quindi come nel caso della convenzione dei diritti umani i diritti sanciti dalla convenzione devono essere garantiti a tutti e tutte senza alcuna distinzione di razza, di sesso, di religione e di opinione. Il superiore interesse in ogni legge o provvedimento, iniziativa pubblica che sia già nell'ordinamento o che sia nuova, il governo o comunque il Parlamento di una nazione deve tenere sempre in considerazione il superiore interesse dei cittadini e delle cittadine minorenni, quindi i minori e le minori hanno la priorità su tutto il resto della popolazione. Il terzo principio fondamentale e trasversale è il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo. Quindi diciamo che ogni Stato deve impegnarsi affinché le risorse disponibili, in termini ovviamente di risorse di budget, ma anche di risorse umane e di servizi, dovrebbero tendenzialmente essere investite tutte per la tutela dei cittadini e delle cittadine future. Il quarto è l'ascolto delle opinioni del minorenne, che ovviamente in questo caso è stato rinforzato dal protocollo facoltativo, e quindi il fatto che né all'interno dei processi decisionali che riguardano i bambini e le bambine, dovrebbe corrispondere un processo per cui si ascolti la popolazione dell'infanzia e dell'adolescenza. La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha tra l'altro costituito a livello internazionale un organo indipendente che è dedicato al monitoraggio della Convenzione. Ogni comitato è poi, diciamo, internazionale, è in dialogo con un comitato indipendente a livello nazionale. In Italia, per esempio, questo comitato è presente all'interno dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e dell'adolescenza, che è del Ministero per le pare opportunità alla famiglia. Sempre in Italia, ad aprile 2020 si è insinuato un nuovo gruppo, e ovviamente ad ogni insediamento di nuovo gruppo si lavora su un piano, diciamo, triennale o quadriennale di azioni da implementare. Negli anni, ovviamente sappiamo che anche negli istituti scolastici alle primarie si parla già di Agenda 2030, chiaramente la Convenzione, la CRC, dialoga strettamente con l'Agenda 2030. Questo perché l'Agenda 2030 è chiaramente dedicato allo sviluppo inclusivo, eco e sostenibile. E all'interno dell'Agenda 2030, in molti articoli, all'interno degli articoli degli obiettivi e dei sotto-obiettivi, sono nominati i e le cittadine del nostro futuro, quindi ragazzi e ragazze. Quindi il principio di non discriminazione del superiore interesse, diritto alla vita, all'ascolto, sono sempre estremamente prioritari anche all'interno dell'Agenda 2030, che si pone come obiettivo quello di non lasciare nessuno indietro, ovviamente a partire dalla vita delle nostre ragazze e delle nostre ragazze. Questo è un motivo per il quale, chiaramente, anche nelle indicazioni nazionali e anche internazionali, si punta tantissimo sulla formazione, sia sulla Agenda 2030 che sulla CRC. Qui vi riporto, perché chiaramente è interessante per analizzare un pochino come l'Italia, il nostro Paese, avanza o meno sui principi della Convenzione, vi riporto le osservazioni conclusive delle Nazioni Unite all'Italia. Come abbiamo visto prima, ogni Paese viene monitorato, quindi gruppi dell'organizzazione internazionale monitorano i rapporti che vengono inviati annualmente da ogni governo. Circa ogni quattro anni ogni Paese riceve delle osservazioni dopo questa analisi. Quando si fanno queste analisi, l'ONU, quindi le Nazioni Unite, non soltanto leggono i rapporti scritti dal governo, ma leggono anche i rapporti scritti dal Comitato Indipendente di ogni Paese. Quindi in Italia abbiamo il Comitato CRC, che è composto da più di 200 organizzazioni ONG, organizzazioni della società civile e così via. E fanno anche, ovviamente, dei focus group, degli incontri, delle interviste per capire come lo Stato si stia impegnando sulla garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Tra, per esempio, le osservazioni del 2019, ce ne sono alcuni che riportano a varie problematiche italiane. Io vi riporto, per esempio, il problema delle risorse destinate alla politica per l'infanzia e l'adolescenza. In particolare nel report vengono recitate anche le risorse destinate all'istruzione e, come sappiamo, l'Italia è indietro anche rispetto a molti paesi europei. All'interno delle richieste c'è un'attenzione particolare anche alla salute e ai servizi sanitari. Quindi, per esempio, l'ONU riconosce che lo Stato italiano dovrebbe superare quelle differenze a livello territoriale proprio per promuovere servizi gratuiti, sanitari a tutti i ragazzi e tutte le ragazze e, tra l'altro, porre un'attenzione particolare a quello che è un tema di oggi estremamente fondamentale che è la salute mentale e quindi il benessere anche mentale dei nostri ragazzi e ragazze. L'ultima che vorrei citare è i diritti dei minorenni richiedi anti-asilo e rifugiati. Anche a livello internazionale si riconosce che bisognerebbe escludere i minorenni dall'applicazione dei decreti di sicurezza e soprattutto assicurare comunque ad ogni minorenne il diritto alla cittadinanza. Veniamo nell'applicazione pratica. Ovviamente quello che io vi ho raccontato sulla CRC e sulla convenzione lo troverete poi neanche nei testi che precedono le attività didattiche con anche degli approfondimenti, dei link ad approfondimenti e così via proprio per andare più a fondo anche perché ovviamente poi le cose cambiano. Tra l'altro nel 2024 dovrebbe esserci il nuovo rapporto proprio dell'ONU all'Italia. Andiamo però ai due moduli. Io su questi due moduli noi abbiamo in realtà li troverete divisi ma in questa presentazione io li presento entrambi insieme sullo sviluppo per le competenze che sono comuni. Quindi con ragazze e ragazze le attività aiuteranno a elaborare delle produzioni personali e di gruppo e quindi anche a migliorare l'espressione delle proprie emozioni e delle proprie idee. Riconoscere le regole del gruppo diciamo classe di cui si fa parte seguire le regole di comportamento e assumersi delle responsabilità comprendere e utilizzare delle parole dei termini specifici all'interno del disciplino di studio sino a alcune competenze maggiormente legate all'espressione linguistica alla scrittura e anche alla creatività. Qui all'interno del modulo ritroverete anche il riferimento alle competenze chiave di riferimento quindi alla competenza personale e sociale e la capacità di imparare a imparare sappiamo essere fondamentale le competenze chiaramente di cittadinanza consapevolezza di espressioni culturali anche per la fascia d'età nelle nostre attività cerchiamo sempre comunque di valorizzare quella che è la creatività l'espressione anche culturale e in alcuni casi anche le competenze alfabetiche funzionali nella madrelingua. Sulle competenze da certificare noi suggeriamo ovviamente di prendere in considerazione la capacità di comunicare con spirito critico il lavoro in gruppo l'empatia e la creatività e la consapevolezza e l'importanza del rispetto reciproco ai fini di una convivenza civile pacifica e solidale. Su questo mi soffermo un attimo perché chiaramente nei nostri moduli abbiamo sempre cercato di almeno in uno dei due di dare una prospettiva internazionale quindi di leggere i diritti sui quali ci concentriamo nell'attività sia in termini più di vicinanza ai ragazzi e alle ragazze quindi nel proprio contesto quotidiano della propria classe, scuola, famiglia e territorio di riferimento sia in collegamento con storie ed esperienze di altri paesi tutto ciò chiaramente non in termini mai tragici o diciamo o drammatici proprio perché non è lo spirito di Action Aid quindi anche le storie che ritroverete per creare dei collegamenti con altri paesi sono sempre in toni diciamo adatti al target di età. Come abbiamo detto nei primi due moduli si vanno a trattare sia la convenzione e la CRC e i principi fondamentali si vanno sia ad esplorare le connessioni con l'agenda 2030 questo abbiamo pensato anche per facilitarvi perché sappiamo che all'interno dell'educazione civica è un tema estremamente affrontato e andiamo invece alle attività alle metodologie utilizzate a seconda chiaramente dei moduli troverete delle metodologie diverse quelle che ritroverete all'interno di questi due sono il circle time che amiamo chiamare così perché in realtà poi si distingue dal mero lavoro di gruppo perché è una metodologia per cui si crea un gruppo di discussione nel quale grazie diciamo alla facilitatrice che in questo caso sarà il docente si cercherà di dare voce a tutti i ragazzi e le ragazze per facilitare il dibattito è chiaramente un lavoro in gruppo e un dibattito in qualche modo facilitato e immediato il disegno creativo questo perché appunto come dicevamo prima per il target di età ci sembra sempre adatto utilizzare il disegno per affrontare anche delle tematiche che possono all'inizio risultare un pochino più complesse lo storytelling quindi la narrazione sia personale sia di gruppo al fine di approfondire delle tematiche il cooperative learning quindi in generale se nei moduli troverete in una prima fase un lavoro più individuale nella seconda fase nel modulo ci sarà sempre un'attività di cooperazione in gruppo procediamo sulle attività del modulo 21 quindi nel modulo 21 che è il primo modulo partiamo diciamo dall'approfondimento della presentazione della convenzione internazionale dritta nell'infanzia dell'adolescenza e nel modulo vi proponiamo un video ora io non vi farò vedere il video perché purtroppo se vediamo tutti i video perdiamo troppo tempo però è un video che presenta diciamo i principi in generale per i bambini e le bambine quindi un video adatto al target in italiano questo perché abbiamo sempre diciamo anche noi problemi a trovare i materiali che siano diciamo adatti al target dell'età dopo la visione del video noi suggeriamo di distribuire ragazze e ragazze un foglio un bianco e chiedere loro di disegnare il proprio ritratto quindi il proprio ritratto nella maniera che preferisco in maniera stilizzata in fumetto senza limizzazioni e aggiungere poi scrivendo sotto un diritto che secondo loro è importante tra quelli che hanno ritrovato nel video seguirà diciamo nella ovviamente nella condivisione quindi si lascerà un pochino di tempo per disegnare nel toolkit c'è l'indicazione diciamo di come organizzare tutto l'intervento quindi trovate anche le indicazioni di tempo e seguirà poi la spiegazione di cosa siano i bisogni primari quindi tutti i bisogni necessari per la sopravvivenza e avere una vita dignitosa per ogni persona quindi bisognerà ovviamente nel toolkit troverete anche la maniera di stegare in maniera più facilitata con le parole giuste i bisogni primari alla spiegazione ovviamente suggeriamo sempre di porre le domande di favorire l'immersione diciamo di pensieri e idee da parte dei ragazzi e ragazze dopo la spiegazione dei bisogni primari e quindi ovviamente del collegamento con i diritti si considererà una stampa del mondo noi vi abbiamo dato diciamo nell'allegato un facsimile però potete ritrovarlo anche online e così via si ridividerà la classe in circa sei gruppi ovviamente questo valutato la seconda del numero dei ragazzi e delle ragazze in classe verrà affidato il compito di colorare un continente quindi ogni gruppo si dovrà organizzare in modo tale di nella mappa del mondo che verrà fatta abbastanza grande di colorare un continente e intorno al mondo si chiederà poi di riflettere chiaramente sui diritti e sui bisogni di tutte le bambine di tutti i bambini nel mondo e quindi di esplicitare quali secondo la classe sono i bisogni e i diritti che accomunano tutti i bambini ovviamente anche partendo da quelli che si saranno esplicitati all'interno del proprio ritratto nel momento finale si chiederà poi di attaccare insieme al mondo anche i ritratti di ogni bambino e di ogni bambina se volete noi in allegato abbiamo selezionato anche alcune foto che ritraggono alcuni bambini e alcune bambine di altri paesi e secondo noi le foto sono esplicative diciamo di un diritto quindi per esempio il diritto all'alimentazione il diritto all'istruzione e così via quindi se volete insieme ai ritratti e ai bambini nella classe si faranno applicare anche le foto in maniera tale da dare un'espressione diciamo più internazionale al cartellone e poi si suggerisce di attaccare proprio il cartellone così che tutti abbiano sott'occhio appunto i diritti di ogni bambino o di ogni bambina nella valutazione e chiusura ovviamente l'attenzione si concentra sempre sul cartellone quindi si chiederà ragazze e ragazze volontari tra loro di leggere al gruppo quali sono i diritti emersi o i bisogni emersi e di valutare insieme se manca qualcosa di fondamentale alla fine si mostrerà diciamo questa immagina che vedete anche nella presentazione che penso vi sia abbastanza diciamo vi ricordi insomma qualcosa perché di solito è l'immagine che ogni 20 novembre si utilizza per celebrare sia a scuola sia fuori dalla scuola la giornata dei diritti dei bambini e delle bambine e degli adolescenti quindi in generale è su questa base che noi ci siamo diciamo focalizzati proprio per creare anche la mappa del mondo con tutti i retratti dei bambini e delle bambine proprio perché ricorda la celebrazione del 20 novembre che come sappiamo appunto è la data in cui venne ratificata la convenzione per chiudere ogni attività diciamo si chiede appunto ad ogni ragazzo o ad ogni ragazza di alzarsi dalla propria postazione chi vuole parlare il proprio diritto preferito mi mando anche eventualmente il gesto che lo rappresenta andiamo poi all'attività del modulo 22 che è quella di consolidamento nel 22 abbiamo cercato di appunto creare quel collegamento e renderlo più esplicito possibile ai ragazzi e le ragazze tra la CRC e l'agenda 2030 stessa cosa come nel primo modulo quello di base proponiamo un video anche qui in questo caso è un video dell'ASVIS che si occupa in Italia proprio di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile ed è un video creato proprio per un target diciamo vicino al nostro aggiungo a questo che volendo questo ovviamente è uno dei video che riassume tutta l'agenda 2030 quindi tutti gli obiettivi però volendo sul sito dell'ASVIS poi potete trovare altri video simili che approfondiscono ogni obiettivo di sviluppo quindi è interessante perché è uno strumento gratuito e si può trovare tranquillamente sul loro sito in questo caso in questo modulo come dicevamo prima partiamo dallo storytelling di gruppo quindi noi nel toolkit vi proponiamo di leggere una storia è una storia e diciamo lasciamo a voi valutare la possibilità di farla leggere a uno dei ragazzi e delle ragazze anche volontari a tutta la classe oppure potete fare come spesso succede nella primaria diciamo di far leggere un pezzettino ad ognuno è una storia scritta in maniera abbastanza semplice che tratta però una tematica diciamo complessa che è quello dei bambini soldato quindi è ovviamente una storia fittizia che però ricorda ciò che in tanti paesi ancora succede purtroppo nelle zone di guerra e nella storia nella narrazione vengono in qualche modo evidenziati alcuni bisogni e alcuni dritti quindi diciamo la storia alla storia all'altura della storia si suggerisce di chiedere alle ragazze e alle ragazze quali di questi diciamo secondo loro vengono enunciate all'interno della storia nella seconda fase poi invece si chiede di dividersi in quattro gruppi ovviamente anche qui valutate a seconda del numero della composizione della classe e si chiede ad ogni gruppo di organizzarsi in modo tale da scrivere una breve storia basata su dove vengano diciamo in qualche modo rappresentati e valorizzati due o tre diritti oppure gli obiettivi di sviluppo sostenibile quindi diritto all'istruzione diritto all'alimentazione sana e così via per guidare ovviamente nella redazione si suggerisce che la storia sia breve che nel gruppo vengano affidati dei compiti quindi che ognuno abbia una responsabilità si suggerisce anche che la storia non debba avere per forza un tono negativo ma possa essere anche una storia normale della vita quotidiana dei ragazzi e delle ragazze ovviamente dato il tempo per scrivere la storia al termine del lavoro ogni gruppo sarà chiamato con un portavoce o una portavoce a condividere la storia con tutta la classe dopo la lettura di tutte le storie chiaramente si riprende il tema principale del modulo e quindi si chiederà ci sono alcune domande guida che vi suggeriamo proprio per riprendere le fila e chiudere diciamo la giornata e capire se ci sono ancora dei dubbi su che cosa è l'agenda 2030 su che cos'è la CRC e così via come chiusura generale anche per avere un feedback e anche di suggerimento dai ragazzi e delle ragazze noi spesso come attività di valutazione utilizziamo quella del lancio di un testimone che può essere una pallina anche di carta ovviamente o un oggetto simbolico della classe che viene passato di mano in mano ovviamente lanciato senza violenza per diciamo spingere le ragazze e le ragazze a valutare l'attività fatta in classe oppure anche a dire ovviamente degli elementi positivi o negativi della stessa siamo arrivati quindi alla conclusione dei primi due moduli del toolkit io prima di lasciare la parola alla collega vi chiedo se ci sono dei dubbi delle domande e così via per curiosità non ci sono domande ovviamente ovviamente poi noi rimaniamo qui quindi se eventualmente vi venissero in mente dopo non fatevi nessun problema a scrivere nella chat e proveremo insomma a riprendere la tematica se non c'è nient'altro io lascerei la parola alla collega Rebecca ciao ciao a tutte e tutti sono Rebecca piacere e adesso cercherò di condividere la presentazione ok ok riuscite a vederla sì ok perfetto la metto in modalità orientazione ah no scusate vado al punto ok mi sentite bene sì 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 perfetto ok quindi ciao io sono Rebecca e lavoro in Action Aid oggi sono qui per presentarvi brevemente i due moduli che tratteranno del diritto all'ascolto e alla partecipazione e altri due moduli che invece parleranno del diritto alla cittadinanza quindi iniziamo con il concetto di partecipazione le ragazze e i ragazzi adolescenti bambini e bambine in maniera individuale o in maniera collettiva anche all'interno della propria classe formano esprimono delle loro opinioni e queste influenzano questioni che hanno a che fare con loro in maniera diretta o indiretta per cui la partecipazione non è solo una parola o un metodo o un approccio ma è proprio un diritto imprescindibile per tutti e tutte e che non ha nulla a che fare con la maggiorità e quindi con il fatto che siano in grado di poter e abbiano il diritto di poter votare a livello nazionale e internazionale non manca il riconoscimento della partecipazione dei giovani come elemento imprescindibile il diritto all'ascolto è sancito all'articolo 12 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza secondo cui i e le bambine e gli e gli adolescenti devono essere ascoltati in merito a tutte le questioni che li e le riguardano quindi l'attuazione di questo principio contribuisce a determinarli non più oggetti ma soggetti di diritto quindi il diritto alla partecipazione invece non è espressamente previsto dalla convenzione ma tuttavia vediamo appunto come in questa slide vi sono il diritto alla libertà di espressione di pensiero di coscienza e di religione e la libertà di associazione e di riunione pacifica quindi questi vengono direttamente considerati direttamente riconducibili adesso già nel 2012 a livello internazionale già nel 2012 il consiglio d'Europa sulla scia delle nuove linee guida sulle politiche giovanile in Scozia aveva non solo elaborato una serie di raccomandazioni politiche per garantire per favorire la consultazione e la partecipazione di ragazzi e ragazze ma aveva anche suggerito agli stati membri dell'Unione Europea un framework di azioni e una guideline pratica per un approccio a garantire la consultazione di bambini e adolescenti a tutti i livelli della politica ma vediamo meglio il framework in Italia quindi in Italia il diritto alla partecipazione è sancito dalla Costituzione come principio fondante e trasversale e la legge per l'insegnamento all'educazione civica del 2009 infatti raccomanda dalle istituzioni scolastiche di rivedere i curricoli formativi e al fine di sviluppare la capacità nei bambini nelle bambine nei ragazzi e negli adolescenti di agire da cittadini responsabili e di partecipare attivamente e consapevolmente alla loro vita civica da un punto di vista pedagogico infatti l'ambiente scolastico dovrebbe essere uno spazio in cui gli studenti possono coltivare anche competenze sociali ed emotive oltre che a quelle disciplinari infatti la partecipazione degli studenti delle studentesse diventa un requisito fondamentale per far sì che la scuola diventi un ambiente di democrazia attiva dell'apprendimento infatti a scuola c'è la possibilità di creare ambienti aperti alla partecipazione che gli studenti possono sperimentare anche tramite anche nell'espressione dei propri desideri e anche tramite dei processi decisionari che possono avviare loro stessi e quindi il coinvolgimento degli studenti è anche un aspetto fondamentale per prevenire l'abbandono scolastico e favorire la partecipazione a scuola infatti anche in contrasto alle disuguaglianze educative il 20% della responsabilità delle disuguaglianze educative e anche dell'abbandono scolastico può essere attribuita alle caratteristiche della scuola che gli studenti frequentano e una di queste caratteristiche è banalmente la possibilità per gli studenti di partecipare a processi decisionali all'interno della scuola quindi ci sono diciamo vari fattori che possono influenzare all'interno della scuola quindi uno sono le strutture e le risorse sia che siano umane che economiche e quindi ad esempio la possibilità di avere degli spazi fisici e concreti per poter fare assemblee ma anche in secondo piano la presenza di pratiche che la scuola mette in atto per favorire per esempio la coprogettazione tra studenti e docenti quindi questo è un po' diciamo il quadro delle nozioni di questo modulo per quanto riguarda gli obiettivi di apprendimento come potete vedere dalla slide quindi principalmente comprendere l'importanza di essere ascoltati e essere presi in considerazione dagli adulti e quindi anche collaborare con gli adulti per avere una scuola migliore un ambiente migliore ma anche appunto distinguere la differenza tra esprimere un proprio desiderio o una propria opinione ed effettivamente attuarlo è anche prendersi un impegno all'interno dell'ambito scolastico e poi come ha precedentemente detto la mia collega Sole siccome il nostro toolkit si diciamo si basa anche sul framework dell'agenda 2030 e quindi degli obiettivi sostenibili quindi promuovere anche il tema di cittadinanza attiva e quindi cercare in tutti i modi di raggiungere gli obiettivi dell'agenda 2030 ma passiamo all'attività vera e propria quindi le due metodologie che noi offriamo nel toolkit sono la simulazione e l'icebreaker quindi la simulazione è una metodologia che permette a bambini e bambine di uscire dal loro scenario conosciuto e di cercare di mettersi nei panni una sorta di gioco di ruolo quindi cercare di sperimentare nuove competenze mettendosi nei panni di un qualcuno o un qualcosa a cui non sono abituati a cui non sono familiari e quindi in questa attività attraverso un gioco di simulazione si cerca cioè attraverso questa simulazione si si crea si cerca di creare un'assemblea di classe una fittizia assemblea di classe un'altra metodologia è l'icebreaker che è un un esercizio giocoso che va ha come obiettivo quello di sciogliere il ghiaccio tra i vari membri del gruppo prima di fare un'attività di laboratorio quindi può essere anche qualcosa di giocoso che all'inizio dell'attività va un po' a stimolare anche a togliere quell'imbarazzo iniziale che si può trovare ecco quindi andiamo a vedere le varie fasi nello specifico delle attività quindi l'apertura con l'icebreaker il rompeghiaccio prevede 5 minuti più o meno e un'attività che abbiamo proposto noi è il lancio di una pallina che sia di carta insomma non so se siamo già una pallina in classe che l'insegnante inizierà a lanciare pronunciando una frase incompleta lasciandola in sospeso e l'insegnante dovrà appunto lanciare questa pallina a uno studente o una studentessa e questo e questo dovranno completare la frase cercando di darle un senso compiuto e essi stessi dovranno poi rilanciare la pallina ad altre persone all'interno del gruppo e così via e quindi è importante che la frase sia diciamo inerente alla vita dei bambini e delle bambine che quindi sia child friendly e quindi noi abbiamo proposto per esempio mentre venivo a scuola ho visto un oppure ieri mentre facevo i compiti è successo che la fase uno invece prevede che la classe si disponga in cerchio o insomma come meglio preferite anche in base alla disposizione delle vostre delle vostre aule l'insegnante spiega che durante questa assemblea che si creerà attraverso una simulazione è necessario prima che si crei l'assemblea è necessario prima di tutto di individuare i ruoli i ruoli all'interno dell'assemblea che siano tramite candidatura o tramite votazione perché può capitare che magari più persone vogliano avere lo stesso ruolo e i ruoli potrebbero essere uno o due rappresentanti di classe un segretario e una segretaria e due osservatori e poi si procede appunto con le candidature e le varie votazioni l'insegnante poi ovviamente accompagnerà lo svolgersi dell'assemblea sottoponendo delle domande guida che porteranno a una riflessione tra tra bambini e bambine quindi per esempio quali sono i problemi che ritrovate nella classe tra di voi durante le attività didattiche e come possiamo fare per migliorare questi problemi e anche il clima della classe nella fase 3 poi il o la docente favorirà la discussione dei desideri e degli impegni che gli studenti gli allunni stessi si prendono per rendere la loro classe un posto un posto migliore quindi magari scrivendo su un cartellone ciò che è emerso i vari desideri i vari bisogni che sono emersi e dividendoli in tematiche così siano chiari magari quelli che che si quelli comuni insomma e tutti gli impegni che vengono vengono scritti sul cartellone rappresentano le proposte della classe ed eventualmente se ci sono anche degli impegni personali che alcuni allunni si sono presi allora ben venga vediamo la fase finale non va si è bloccato valutazione chiusura quindi per questa attività si prevedono 10 minuti di valutazione e 10 minuti di chiusura per sollecitare la valutazione se avete la possibilità di proiettare in aula noi suggeriamo di far vedere questa foto di un gruppo di adolescenti che in una scuola in India promossa da ActionAid come vi diceva la mia collega ActionAid lavora in vari paesi del mondo hanno svolto la stessa identica attività e quindi sarebbe carino magari proiettarla in classe per far vedere anche loro cosa hanno fatto e poi la docente chiederà di valutare se l'assemblea di classe sia risultata utile o no e magari riproporla organizzarla a cadenza temporale mensile e se c'è anche il bisogno di trovare uno strumento di monitoraggio per esempio creare una scatola che raccolga tutti i bisogni anche in maniera anonima da tenere in classe o delle idee oppure una riunione con tutti i docenti della classe ogni tanto o un questionario da compilare nei mesi successivi per la raccolta di bisogni infine come chiusura sempre di 10 minuti magari cercare di sfruttare questi minuti conclusivi per fare un riassunto sull'attività che è stata fatta vedere quali sono stati i risultati e aprire magari un attimo di discussione nel caso ci siano commenti interventi riflessioni o anche critiche e poi riteniamo che sia magari importante comunicare anche quando si terrà il prossimo incontro e i principali argomenti che verranno trattati quindi sì questa è l'attività proposta diciamo per questo modulo primo modulo sul diritto all'ascolto alla partecipazione e diciamo che questo era il modulo base ora passiamo a quello di consolidamento quindi allora il concetto di partecipazione abbiamo detto che è molto complesso e diciamo che ci sono diverse ricercatrici anche nella letteratura che hanno condiviso i loro studi in particolare su come la partecipazione possa applicarsi all'interno dell'ambito scolastico attraverso i vari i vari processi decisionali quindi è importante che l'Undi è una ricercatrice che ha sviluppato una teoria secondo cui ci sono certi elementi da garantire all'interno di un processo partecipativo che sono in primo luogo lo spazio quindi è importante che bambini e bambine si ritrovino in uno spazio che deve essere sicuro sia in termini fisici ma anche figurativi quindi in cui sia tutelata e incoraggiata la loro l'emersione dei loro punti di vista delle loro emozioni delle loro opinioni e quindi uno spazio anche privo di discriminazione e inclusivo per tutti e tutte la voce è un altro elemento fondamentale quindi i e le giovani devono veder garantito il loro diritto di espressione a prescindere dal livello di maturità e tramite anche diverse modalità a seconda delle attitudini personali quindi che sia voce o in maniera anonima cartacea o in maniera digitale attraverso digitalmente un altro elemento importante è l'audience quindi è necessario che sia definito e chiaro fin da subito il target quindi la presenza nell'ambito del processo partecipativo dei decision makers quindi di coloro che all'interno dell'ambito scolastico prendono le decisioni che poi andranno ad ascoltare le loro opinioni i loro bisogni infine l'influenza ovviamente la voce di ragazzi e ragazze deve avere un peso realmente politico e non essere soltanto ascoltata ma rientrare appunto nei vari processi decisionali e di governance un altro modello che è stato proposto nella letteratura è quello di heart quindi velocemente perché è davvero molto utile è interessante perché introduce un alert un piccolo segnale nel caso in cui ci sia il rischio di manipolazione dei e delle giovani nell'ambito dei processi partecipativi all'interno delle scuole e infatti vediamo che è sotto forma di scala in cui ogni gradino partendo dal numero uno in cui ogni gradino rappresenta un diverso grado di partecipazione giovanile al processo decisionale quindi si parte dal numero uno che è la vera e propria manipolazione il secondo la decorazione il terzo il tokenism quindi nel primo i giovani non ricevono alcuna informazione base sul processo decisionale ma vengono praticamente costretti a partecipare nel secondo fungono semplicemente da scenario e nel terzo sono parte del processo ma non hanno nessun ruolo decisionale o di coprogettazione e quindi questo modello è utile perché ci fa vedere quali sono i gradini e gli step necessari per arrivare a un processo decisionale dove i giovani stessi hanno un ruolo importante e vengono inclusi anche nei processi decisionali quindi nel quarto livello i giovani non sono solo informati ma incaricati di gestire in autonomia alcuni compiti e quindi la possibilità di influenzare parte del processo nel quinto i giovani sono consultati e seppur non hanno potere decisionale nel sesto seppur tramite una decisione presa da parte degli adulti hanno capacità di decidere e influenzare tutte le fasi del processo nel settimo sono loro stessi a proporre e gestire un processo sempre con il supporto degli adulti nell'ottavo e l'ultimo livello sono loro stessi a ideare progettare e sviluppare ogni fase del progetto ed eventualmente a decidere in che modalità e tempistiche coinvolgere gli adulti quindi questa scala può essere davvero molto utile per vedere cosa manca e cosa c'è che non va nei processi decisionali e partecipativi a scuola quindi andiamo all'attività vera e propria l'attività richiederà più o meno un'oretta e sarà un'attività laboratoriale e di simulazione sempre per elaborare proposte di cambiamento invece questa volta sul territorio quindi nel primo modulo si parla di proposte di cambiamento all'interno della propria classe all'interno dell'ambiente che gli alunni vivono all'interno della classe qua invece si tratta di cambiamento sul territorio quindi in questa attività noi proponiamo due metodologie quella del laboratorio e quella del cooperative learning o apprendimento cooperativo questa è interessante perché è una metodologia attraverso cui gli alunni e le alunne apprendono in piccoli gruppi si aiutano reciprocamente e in questo caso l'insegnante ha un ruolo di facilitatore e si cerca di trasformare ogni attività di apprendimento in un processo di per esempio problem solving di gruppo che richiede quindi un contributo da parte di tutti e tutte quindi andiamo nel vivo dell'attività quindi anche qui è prevista un'apertura di 5 minuti dove si spiega l'attività della giornata facendo emergere il collegamento con quella del modulo precedente e quindi mostrare la differenza tra le due come dicevo prima in questo caso si parla di un cambiamento al di fuori delle mura della scuola nella fase 1 si consiglia di affiggere al muro la stampa di una cartina stradale e poi un cartellone diviso in due colonne con scritto mi piace e non mi piace e poi si può dire ai ragazzi e le ragazze di creare una pedina che li rappresenti che servirà per l'attività nella fase 2 un bambino o una bambina alla volta con la sua pedina traccerà il percorso che impiega per andare da casa a scuola o da casa in palestra o da casa in parrocchio in oratorio insomma quello che preferiscono e l'insegnante aiuterà il bambino o la bambina ad orientarsi sulla cartina stradale e a ripercorrere il percorso cercando di focalizzarsi su le cose o non so gli edifici che incontra durante il percorso e anche indicare se fa questo percorso in macchina o a piedi o con i mezzi pubblici e per poi segnarlo sulla cartina una volta terminato il percorso si chiede a studenti e studentesse di indicare cosa piace e cosa non piace durante il percorso che si fa per andare a scuola o per tornare a casa e quindi gli si chiede di appuntarlo sul cartellone o magari se preferite chiedere a una volontaria della classe di aiutarvi a riportarlo sul cartellone e così si cerca anche di stimolare una riflessione in base a quello che emerge dalle varie risposte e ciò che viene riportato sul cartellone quindi si cerca di vedere gli aspetti comuni e soprattutto cosa non è piaciuto al gruppo e magari chiedere cosa si può migliorare come facciamo a migliorare questa situazione a chi possiamo rivolgerci non so per esempio a un bambino andando a scuola non piace il fatto che ci sia tanta spazzatura per strada e quindi gli si chiede come possiamo migliorare questa cosa a chi possiamo rivolgerci e nella terza fase si dividono i bambini in gruppi e si chiede a ciascun gruppo di elaborare una sorta di proposta di cambiamento in base a quello che è emerso infatti noi nel toolkit forniamo un prototipo in allegato e questa proposta verrà poi data al relativo responsabile che sia il sindaco l'assessore la dirigente scolastica e si chiede poi ad ogni gruppo di presentare in due minuti la propria proposta per chiudere poi l'attività se avete un proiettore noi suggeriamo magari di far vedere alcune richieste sempre riportate da studentesse indiane proprio come nel modulo prima che sono emerse quando hanno fatto un laboratorio simile a questo perché insomma sembrava un'idea carina per far vedere cosa invece è stato riportato da queste studentesse indiane infine sempre per la valutazione il gruppo si dispone in cerchio e si chiede alle bambine e ai bambini se ricordano quali sono gli obiettivi dell'agenda 20-30 e non so se credo che in educazione civica si facciano si coprano quindi magari chiedere se se li ricordano e associare ad ogni proposta un obiettivo di sostenibilità ad ogni proposta che hanno riportato e poi valutare appunto se se si ricordano e se hanno appreso la tematica e per alzata di mano votare ogni gruppo votare un SDG di riferimento quindi si può trovare anche un possibile testimone che sia una pallina o altro questo viene passato di mano in mano e a turno ogni alunno dà un voto da 1 a 5 sull'attività proposta motivando il perché del loro voto e magari offrendo dei suggerimenti eventuali per migliorare la proposta al termine del lavoro una volta concordato l'obiettivo associato ad ogni attività lasciare quindi il compito di disegnarlo sulle proposte di cambiamento oppure chiedere a un aiutante di raccogliere le proposte ed eventuali domande e riflessioni emerse e niente quindi questo era il secondo modulo sempre sul diritto all'ascolto e alla partecipazione e non so se prima di passare al prossimo non so se avete domande o chiarimenti fatemi sapere che così nel caso aspettiamo un attimo a cominciare intanto interrompo la condivisione perché devo cambiare powerpoint si francesca vedo che ha alzato una mano e dimmi pure francesca no no mi sono sbagliata non c'è nessuna mano alzata credo ok quindi se per voi va bene proseguirei con il diritto alla cittadinanza allora aspettate che vi condivido l'altro powerpoint quindi credo sia questo riuscite a vederla bene ok perfetto ok passiamo un'altra tematica che a noi di action aid sta sta molto a cuore e poi vabbè è importantissima e fondamentale in questo momento nel dibattito pubblico quindi il diritto alla cittadinanza vediamo come è regolato il diritto alla cittadinanza in Italia allora l'articolo 7.1 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza afferma che perché noi vogliamo come spiegava prima Sole appunto vedere come il diritto della cittadinanza ha un effetto e conseguenze sui giovani i bambini e le bambine che vivono in Italia che purtroppo ancora non hanno la cittadinanza quindi nella convenzione l'articolo 7.1 afferma che il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome ad acquisire una cittadinanza e da qui il diritto alla registrazione alla cittadinanza di ogni bambino e bambina che gli stati parti sono chiamati a garantire e tutelare quindi in Italia la legge che vige il diritto della cittadinanza è la legge 91 e prevede che allora innanzitutto scusate mi sono persa innanzitutto diciamo che nel nostro paese più di un milione di persone nate da genitori stranieri o cresciute e attive nel tessuto sociale italiano vivono ancora senza un riconoscimento formale della loro appartenenza allo stato italiano e l'attuale legge della cittadinanza che è la legge numero 91 regola l'acquisizione della cittadinanza italiana ed è quello dello ius sanguinis quindi in base ad esso è italiano chi ha almeno un genitore italiano a prescindere da dove sia nato inoltre ha i figli degli immigranti italiani residenti all'estero per naturalizzazione agli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di diritti sufficienti assenza di precedenti penali assenza di motivi ostativi per la sicurezza della repubblica quindi come vediamo requisiti molto limitanti poco accessibili e infine per matrimonio dopo aver sposato un cittadino italiano purché il cittadino risieda in Italia da almeno due anni dopo la data del matrimonio o se è stato residente all'estero devono passare almeno tre anni dopo la data del matrimonio quindi al momento questa è la situazione ed è una legge che non rispecchia per niente il quadro sociale italiano di oggi e tiene nostaggio vite e opportunità per il nostro paese proprio a partire dalle scuole e dalle università infatti sono 877 mila le studentesse e gli studenti senza cittadinanza quindi circa il 10% della popolazione studentesca non avere la cittadinanza scusate questo era un dato che ho già detto prima quindi non avere la cittadinanza comporta una forte discriminazione specialmente per studenti e studentesse di scuole e università e infatti le persone che non hanno ottenuto questo riconoscimento hanno tantissimi ostacoli da superare quindi non possono partecipare a iniziative come scambi culturali che siano Erasmus o hanno all'estero non possono esercitare il diritto di voto e non possono iscriversi all'albo della professione per cui hanno studiato e che vogliono praticare in futuro quindi la situazione è molto molto grave quindi la riforma Action Aid è attualmente attiva attraverso una campagna per la riforma della cittadinanza attraverso ad altre realtà attraverso una vera e propria rete di realtà che siano collettivi e vari movimenti la riforma verso l'ottenimento di una cittadinanza che sia inclusiva deve dunque seguire quattro criteri fondamentali il diritto di cittadinanza per chi nasce in Italia per chi cresce in Italia per chi vive stabilmente in Italia e per chi per avviare delle procedure che siano più rapide e criteri certi e disposizioni transitorie quindi è una diciamo che è una battaglia molto attiva al momento in cui Action Aid crede molto per cui l'attività che vi proponiamo anche qui è un'attività che prevede un'ora circa e attraverso delle riflessioni individuali e di confronto con il gruppo la classe cercherà di interiorizzare il concetto di cittadinanza e diritto alla cittadinanza quindi la metodologia prevede il brainstorming il circle time che ha spiegato prima la mia collega Sole e promuovere come valutazione la peer learning che cos'è la peer learning è quindi un principio attraverso secondo cui la conoscenza si trasmette tra pari grado quindi tra persone simili per età status e problematiche e quindi questo rende agli occhi di chi impara interlocutori credibili affidabili degni di rispetto e questa metodologia migliora l'autostima le abilità relazionali e anche di comunicazione appunto tra pari vediamo all'attività ok andiamo nel vivo dell'attività quindi nella fase 1 dell'attività si ci concentra sulla definizione del concetto di cittadinanza e in supporto a questo obiettivo magari attraverso un brainstorming iniziale l'insegnante chiede ad alunne e ad alunni di dire cosa sia per loro la cittadinanza e scrivere le risposte e quindi si cerca di guidarli per arrivare a un concetto che sia il più semplice e chiaro possibile perché effettivamente è un concetto abbastanza complesso e nel caso di presenza in classe di bambini e bambine che non hanno sono ancora privi di cittadinanza e nel rispetto delle diverse sensibilità ovviamente si chiede di spiegare alla classe se ciò di chiedere alla classe se ciò per loro rappresenta una difficoltà a questi bambini che sono privi di cittadinanza e chiedere loro magari se si sentono italiani o italiane e noi tra l'altro abbiamo suggerito nel toolkit di vedere due video abbiamo proposto due video da guardare uno inerente alla campagna sulla riforma della cittadinanza proposta da ActionAid un altro invece dove si spiega un po' a dei bambini il concetto di cittadinanza di diritto di cittadinanza io non ve li farei vedere perché poi si rischia di perdere troppo tempo però ovviamente se li ritenete adatti e appropriati potete utilizzarli per far capire meglio il concetto e li trovate nel toolkit comunque nella fase due una volta raggiunta una definizione comune si chiede a un alunno o un'alunna volontaria di esprimere con una parola le immagini che il concetto di diritto di cittadinanza gli suggeriscono il compagno poi a fianco dovrà aggiungere che cosa a lui o a lei fa venire in mente la parola menzionata dal compagno e così via creando una sorta di telefono senza fili di parole o idee che rimandano alla cittadinanza si ragiona su cosa comporta poi avere o non avere la cittadinanza e si riempie un cartellone seguendo lo schema cosa posso fare e non fare se ho o meno la cittadinanza quindi proprio dividere in due colonne e vedere chiaramente visivamente io bambino bambina se non ho la cittadinanza cosa posso fare cosa non posso fare e si conclude l'attività sottolineando magari la necessità di attuare una riforma quindi nuovamente chiedere loro e aprire una conversazione sul cosa possiamo fare per migliorare la situazione poi sempre su un altro cartellone si va a scrivere Italia dimmi di sì e le studentesse gli studenti colorandosi le mani con la tempera poi non so potete anche voi utilizzare altri metodi creativi se volete ovviamente il nostro è solo un suggerimento appunto colorandosi le mani con la tempera lasciano le loro impronte colorate attorno a questa scritta in conclusione comunque di una discussione molto molto importante quindi anche cercare di noi cerchiamo sempre di suggerire un output creativo dopo ogni attività per stimolare anche gli interessi creativi dei bambini e delle bambine quindi questa è l'attività vera e propria ah sì qua io avevo messo il link del video ma ho paura che non avremo abbastanza tempo comunque lo trovate nel toolkit e infine nel momento di valutazione nuovamente valorizzando eventuali origini straniere del gruppo classe avviare un'attività di valutazione a coppie quindi creando anche coppie miste tra maschi e femmine e ogni coppia dovrà poi rispondere alle domande a queste domande che noi abbiamo proposto delle domande guida e supportarsi reciprocamente se qualcosa non è chiaro quindi per esempio chiedere quando si ottiene la cittadinanza se per esempio i miei genitori sono emigrati in Italia dalla Cina o da un altro paese se volete o comunque se non ho la cittadinanza italiana posso andare in vacanza se non ho la cittadinanza posso andare a scuola o devo pagare quindi cercare di avviare una riflessione attraverso queste domande guida e infine come in chiusura cercare di di approfittare di questi minuti conclusivi per fare un riassunto di quello che è stato fatto dei risultati che sono emersi e ovviamente lasciando lo spazio a avere domande commenti o riflessioni e poi magari è necessario anche capire cosa è stato appreso quali conoscenze sono state acquisite perché comunque si parla di di conoscenze in questo caso che quindi che cos'è la cittadinanza vedere insomma cosa viene fuori da dai bambini e le bambine e come si può migliorare la situazione quindi questo era il modulo sul diritto alla cittadinanza base e ora passiamo invece a quello di consolidamento che invece si concentra su la cittadinanza digitale quindi molto inerente al nostro mondo di oggi quindi la cittadinanza digitale può essere definita come un'estensione della cittadinanza che noi intendiamo tradizionalmente che appunto viene raggiunta attraverso la presenza di strumenti di mezzi che abbiamo a disposizione che il cittadino ha a disposizione per esercitare i propri doveri e i propri diritti quindi questo nuovo esercizio di cittadinanza non dobbiamo considerarlo come un esercizio alternativo a quello tradizionale ma integrativo a quello tradizionale e in questo senso è importante la cittadinanza digitale è importantissima specialmente al giorno d'oggi per rivendicare quelli che sono i propri diritti e i propri doveri attraverso questi nuovi strumenti che siano l'identità digitale la firma digitale il domicilio il domicilio scusate per rendere tutto il processo più snello e per avere diciamo un rapporto più efficiente e più trasparente anche tra il cittadino e la pubblica amministrazione e le imprese e quindi attraverso il codice dell'amministrazione digitale diventa possibile dialogare in modalità digitale con le amministrazioni così come acquisire un'identità digitale per poter esercitare anche l'accesso telematico a documenti e informazioni per cui abbiamo un nuovo modello organizzativo che favorisce anche una pubblica amministrazione in teoria più trasparente e semplificata e l'istruzione e la formazione devono promuovere la maturazione di queste nuove competenze funzionali per esercitare i diritti e i doveri di cittadini digitali e quindi in modo da metterli in grado di poter esercitare la propria cittadinanza utilizzando criticamente e consapevolmente quelli che sono i media i social e in generale la rete la legge 92 numero 92 del 2019 prevede l'insegnamento di cittadinanza e costituzione con la reintroduzione dell'educazione civica e dedica un articolo specifico alla cittadinanza digitale in particolare l'articolo 5 prescrive di saper fluire in modo consapevole e critico dei media e della rete partecipando a un dibattito pubblico e creando e gestendo in sicurezza la propria attività digitale quindi questo e inoltre è stata istituita anche a livello nazionale la consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale in coordinamento con il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo previsto dalla legge numero 71 e all'articolo 3 che rafforza la centralità di questo tema e anche il successivo testo delle linee guida che lo individua come nucleo tematico insieme alla costituzione e sviluppo sostenibile quindi in sintesi possiamo dire che l'esercizio della cittadinanza digitale è un'estensione e un'integrazione della cittadinanza come noi la intendiamo tradizionalmente e può volendo può essere praticato in un modo consapevole critico e responsabile e è necessario che all'interno delle scuole quindi all'interno dell'ambito dell'educazione comunque che ci siano degli interventi in cui i giovani che sono i nativi dell'era digitale possano essere i protagonisti stessi della loro partecipazione proprio grazie a quegli strumenti che utilizzano quotidianamente che siano appunto insomma telefoni eccetera quindi in sostanza questo per cui passiamo all'attività vera e propria la metodologia nuovamente che abbiamo proposto è quella dell'apprendimento cooperativo quindi come dicevo prima una metodologia di apprendimento che vede il lavoro in gruppi di studenti e studentesse che aiutandosi reciprocamente appunto si sentono anche corresponsabili del reciproco percorso allora lo spazio il setting di questa attività è l'aula quindi niente di complesso e l'obiettivo di apprendimento è appunto la comprensione e l'interiorizzazione della cittadinanza digitale quindi andiamo alle fasi vere e proprie dell'attività quindi nella fase 1 cercare di inquadrare il concetto di cittadinanza digitale arrivando anche qui a una definizione che sia il più semplice e chiaro possibile e si possono porre delle domande in classe di contrasto per esempio al cyberbullismo in modo che si avvia anche una riflessione su questa tematica quindi che utilizzo fate di internet conoscete i social network se si quali utilizzate di più oppure come ne fate uso cioè ne fate uso accompagnati e accompagnate dai vostri genitori o autonomamente quindi avete i vostri account e li usate autonomamente e sapete distinguere gli obiettivi di un social rispetto a un altro nella fase 2 la fase 2 prevede la divisione della classe in 4 gruppi e con l'aiuto dell'insegnante si cerca di creare un post e di associare al post un'immagine immaginando di poterlo utilizzare per un social che sia Instagram che sia non lo so Facebook o un altro social ancora per trasmettere un messaggio importante sul diritto alla cittadinanza quindi utilizzare il strumento del social per diffondere un messaggio importante e di divulgazione quindi si sollecitano i ragazzi e le ragazze a essere creativi anche qui la creatività è importante ma anche come dire chiari ed efficaci nel diffondere il messaggio e quello che vogliono esprimere con quel messaggio e soprattutto anche chiedere loro a chi si rivolgono quindi distinguere un target preciso che sia la loro famiglia quindi i loro genitori o i loro pari che siano altri studenti o altre studentesse o ancora la comunità locale quindi è importantissimo definire il target anche per poter come dire modulare il il scusate non mi viene la parola il linguaggio ecco il linguaggio in base al target che hanno scelto e infine ogni gruppo riporterà alla classe il lavoro che hanno che hanno fatto quindi ci sarà un momento di restituzione e ci si confronterà tra i vari gruppi sulla scelta delle parole o delle immagini per il post e per il messaggio che hanno voluto che hanno voluto diffondere e che hanno deciso di lanciare e quindi infine in conclusione in cerchio la docente o il docente discuterà con gli alunni e le alunne sulle attività che sono state fatte e perché sul perché sia importante che ragazzi e ragazze abbiano l'opportunità di esprimere le proprie idee anche sui social e che vengano prese e ascoltate dagli adulti e rispettate dalla stessa comunità che c'è online l'insegnante poi in questa fase avrà il ruolo di mediatore o mediatrice e chiede a turno di condividere una parola che hanno imparato o che li ha colpiti sulla cittadinanza digitale quindi a turni cercare di dire una parola o una non so un'emozione una frase che li ha colpiti quando si parla di cittadinanza digitale e infine in chiusura nuovamente come sempre sfruttare quei minuti per fare un riepilogo di quello che è stato fatto e i risultati che sono stati ottenuti e nuovamente lasciare lo spazio alla discussione al confronto e a varie riflessioni o critiche che emergono quindi niente questo è quanto è la fine del modulo 26 sulla cittadinanza digitale e io mi taccio che ho parlato già fin troppo se avete delle domande o delle curiosità dei chiarimenti chiedete pure grazie non vedo mani alzate non so se magari chiedo anche alla mia collega Sole ma a questo punto potremmo fare la pausa che dicevamo prima di un quarto d'ora così ci prendiamo un caffè esatto alle 16 e 15 e poi torniamo va bene ok a dopo e grazie per l'ascolto grazie a voi eccoci di nuovo ricominciamo io passo direttamente la parola a Giulia che si occuperà degli ultimi moduli grazie Sole buon pomeriggio a tutte e tutti ultima fatica ci siamo quasi siamo quasi in dirittura d'arrivo io come appunto ha introdotto la mia collega vi accompagnerò alla scoperta dei contenuti degli ultimi due moduli che mancano di cui ci siamo occupate come Action Aid il primo modulo che andremo a vedere insieme riguarda il diritto all'istruzione ora io so che insomma abbiamo parlato tanto per cui mi taccio immediatamente chiedo a voi di attivarvi perché perché sicuramente rispetto a tutte e tutti noi voi siete quelli e quelle che hanno più competenza rispetto al tema e all'ambito dell'istruzione per cui vi chiederei se riuscite se il dispositivo da cui siete connessi e connesse ve lo consente di andare su www.menti.com e utilizzare il codice che vedete nella presentazione se non doveste riuscire a entrare su menti.com potete utilizzare questa chat allora io intanto scrivo in chat il codice così tutte e tutti ce l'avete anche lì perché adesso vorrei farvi vedere la schermata il mentimeter ok il codice è 421 56 191 ok ora interrompo ok dovrebbe uscirvi questa domanda diritto all'istruzione io vorrei che voi scriveste la prima cosa che vi viene in mente quando sentite diritto all'istruzione per capire un po' qual è la vostra percezione rispetto a questo che è un diritto sociale come è stato detto in apertura per poi andare a fondo rispetto ad alcuni concetti che ci serviranno per capire la cornice dentro la quale sono state pensate le attività da proporre poi a ragazzi e ragazze fatemi sapere se riuscite ad accedere a mentimeter adesso dovrebbero comparire le prime parole se le inserite se ci sono delle difficoltà appunto utilizzate pure la chat ok libertà molto bella questa prima parola che compare è Ok, era talmente bella questa nuvola di parole che sono stata buttata fuori dalla chiamata quindi se non vi dispiace io tengo la telecamera spenta, tanto voi vedete sicuramente lo schermo in condivisione in questo momento e vedete le parole che avete segnato, ne leggo alcune, voi continuate pure a scrivere e inserire che mi fa molto piacere insomma vedere quello che pensa questo gruppo di persone che non ho modo di vedere fisicamente ma che comunque è qui con me e dunque avete scritto libertà che è la prima che è comparsa ed è molto in grande possibilità, scuola, fondamentale, consapevolezza, futuro, uguaglianza che compare in grande quindi vuol dire che molti e molte di voi l'hanno scritta, gratuita, conoscere, scelta, equità, universale, futuro, autodeterminazione sono delle parole molto belle, sono molto soddisfatta, si vede che siete molto competenti rispetto a questo tema io adesso interrompo la condivisione della vostra nuvola ma la inserirò nella presentazione che poi magari vi verrà condivisa in modo che possiate insomma avere memoria di questo momento di condivisione tutte e tutti insieme e ritorno alla presentazione rispetto al tema che andremo a trattare insieme eccola qua direi che siete stati assolutamente bravi e bravi perché avete proprio centrato alcune delle caratteristiche che riguardano proprio questo diritto sociale che cosa ci aiuta a capire, che cosa significa diritto all'istruzione sicuramente la dichiarazione universale dei diritti umani che ci dice che ogni individuo ha diritto all'istruzione che deve essere gratuita, che è una delle parole che anche voi avete scritto e obbligatoria per le classi di base un altro faro illuminante che ci può guidare all'interno di questa cornice c'è sicuramente la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che è stato menzionato appunto anche da Maria Sole in apertura e nello specifico sono gli articoli 28 e 29 che insomma ci dicono con forza che bisogna tutelare il diritto all'istruzione di tutte e tutti i bambini e le bambine e gli adolescenti e che appunto deve essere gratuita e obbligatoria per tutti e tutti gli stati devono facilitare anche nel caso in cui non sia obbligatoria per legge la frizione insomma dell'istruzione e fornire delle adeguate informazioni che devono rendere poi possibile l'istruzione superiore a chi ne ha capacità e volontà che cosa determina un buon livello di istruzione? sicuramente migliora che cosa? lo sappiamo benissimo la qualità della vita del singolo individuo quindi della singola persona ma anche quella della comunità in cui questa persona è inserita perché? perché può andare insomma a migliorare quella che è la condizione di vita e a contribuire alla ricchezza della sua conoscenza per diffonderla anche alle persone della sua comunità e non solo che cosa serve? qual è l'altro ingrediente? oltre ovviamente a un framework legislativo sicuramente siete voi quindi gli e le insegnanti che devono avere un buon livello di preparazione e devono tenere sicuramente conto delle capacità dei singoli alunni ed alunne per andare a costruire quello che è un percorso educativo che tenga conto di tutte le esigenze delle peculiarità dei singoli ragazzi e ragazze bambini e bambini quindi è inoltre necessario che questo insegnamento questa educazione che viene impartita e condivisa sia diciamo scevra da ogni discriminazione e soprattutto che non tenga conto delle differenze di genere un altro punto cardine che ci accompagna all'interno di questo modulo e non solo che è trasversale un po' anche ai moduli precedenti sicuramente è l'obiettivo di sviluppo sostenibile numero 4 ovvero istruzione di qualità che cosa ci dice? fornire un'educazione di qualità equa e inclusiva e l'opportunità di apprendimento per tutte e tutti quindi che cosa fa questo obiettivo numero 4? mira a garantire che bambini e bambini adolescenti ed adulti perché diciamo tiene conto dell'approccio di lifelong learning ovvero un apprendimento permanente che non è soltanto nella fase dell'infanzia e insomma dell'adolescenza ma che continua poi per tutta la vita quindi questo per garantire a bambini e bambini adolescenti ed adulti soprattutto a chi vive in condizioni emarginate e vulnerabili come per esempio le ragazze e le donne abbiano accesso ad istruzioni e formazioni adeguate alle loro esigenze e al contesto in cui vivono quindi questo rende l'istruzione quel fattore che contribuisce come dicevamo all'inizio alla costruzione di un mondo che è più sicuro e sostenibile e anche interdipendente prossima slide sappiamo che le diseguaglianze globali impattano fortissimamente il campo dell'istruzione ma non solo quindi anche la vita e il futuro di bambini e bambini sappiamo che andare a scuola e ricevere un'istruzione equa e di qualità quindi tutte quelle caratteristiche che abbiamo elencato fino adesso non è tutt'oggi un diritto di tutte e tutti alcuni dati qui leggete più di 300 milioni di bambini e bambini nel mondo non frequentano la scuola o hanno dovuto abbandonarla per una serie di ragioni si stima che circa appunto 617 milioni di bambini e bambini e adolescenti non sappiano nemmeno leggere e scrivere né svolgere le diciamo basiche operazioni matematiche poi qui leggete altri dati e quello che colpisce sicuramente maggiormente è appunto che il 75% di bambini e bambini analfabete e analfabete si trova in Africa subsahariana e in Asia medio orientale scusate meridionale ma di questo dato ci deve colpire comunque che appunto non tutte e tutti sappiamo abbiamo gli strumenti necessari per comunicare e le conoscenze di base che noi diamo per scontate un altro tema di cui ci occupiamo è sicuramente l'abbandono scolastico che è un fenomeno diffuso in tutto il mondo quindi non soltanto nella nostra zona del mondo ma appunto per diverse ragioni è capillare in tutto il globo le ragioni sono appunto di vario genere ci sono appunto identificate come le cause le guerre, i cambiamenti climatici, i disastri ambientali la mancanza di infrastrutture, le disabilità spesso appunto le scuole sono troppo distanti rispetto al luogo in cui i bambini e bambini nascono spesso soprattutto le bambine alle bambine non viene data la possibilità di andare a scuola perché si preferisce riservare l'istruzione a il figlio maschio e le bambine tenerle insomma a casa per tutto quello che è diciamo la cura quindi tutto il lavoro di cura quindi ci sono qui delle differenze che vengono accentuate differenze di genere che dicevamo inizialmente delle diseguaglianze che sono accentuate da diverse condizioni che possiamo riscontrare nel mondo quindi l'abbandono scolastico quali sono le cause? abbiamo detto che appunto è diffuso in tutto il mondo e le cause sono diverse abbiamo detto che ci sono numerose famiglie che devono mantenere tanti figli e figlie quindi le bambine spesso vengono costrette a sposarsi per un essere di peso genitori e lo studio viene riservato ai fratelli maschi un elemento sicuramente che ricordiamo tutte e tutti che ha colpito profondamente di cui gli effetti vediamo ancora oggi sia positivi che purtroppo negativi è sicuramente stata la pandemia da Covid-19 del 2020 che ha diciamo oltre a tutti i problemi che ha causato aiutato diciamo alla dispersione di studenti e studentesse in 188 paesi del mondo che sono rimasti chiusi e chiuse fuori dalle loro scuole quindi non avevano modo per continuare il loro percorso di istruzione quindi sono proprio persi e perse perché le scuole hanno dovuto chiudere perché non esistevano i device quindi i dispositivi adatti per continuare la famosa didattica a distanza non è stata possibile in tutte le parti del mondo ma anche noi lo sappiamo perché anche qui in Italia abbiamo avuto delle difficoltà e quindi sicuramente questo evento storico ha segnato moltissimo anche l'ambiente dell'istruzione qui trovate alcuni qui e anche nei moduli che insomma vi potrete scaricare appunto da metà settembre troverete dei link per approfondire le varie fonti che parlano del diritto all'istruzione e anche alcuni dati interessanti che possono essere appunto un arricchimento per voi ma anche utili per contestualizzare poi le attività in classe con bambini e bambini andiamo appunto alla ciccia cioè come facciamo a rendere partecipi i bambini e bambini e a far capire loro quanto è importante il diritto all'istruzione che spesso noi diamo per scontato noi sappiamo che a un certo punto dobbiamo andare a scuola ma è per tutte e tutti così? forse no come facciamo per capire insieme questa cosa e discuterla e interiorizzare anche questo privilegio che abbiamo e provare anche a trovare degli escamotage delle strategie per far sì che questo non sia solo un privilegio di alcune ed alcuni ma diventi dominio di tutte e di tutti proviamo a farlo attraverso queste due attività che noi abbiamo pensato quindi sempre mantenendo un approccio ludico quindi attraverso il gioco bambini e bambini rifletteranno appunto sull'istruzione e sul fatto che non tutte e tutti a causa di diversi fattori concatenati abbiano la possibilità di andare a scuola e ricevere un'adeguata formazione quindi non tutte e tutti i bambini e le bambine del mondo conducono la stessa vita e soprattutto la scuola per chi riesce a frequentarla ha un potere trasformativo molto importante non solo per chi la frequenta abbiamo detto ma anche proprio per tutta la comunità in cui la scuola è presente e anche il singolo bambino o bambina vive quali sono gli obiettivi di apprendimento comprendere quindi quelle che sono le difficoltà che impediscono a tutte e tutti di avere un accesso a un'istruzione di qualità e apprendere le modalità di confronto critico e costruttivo tra pari con chi gli adulti e le adulte di riferimento che in questo caso siete voi ma vedremo poi nel modulo di approfondimento che questo ragionamento si può estendere a tutta la comunità educante quindi non solo al rapporto che avete voi con i vostri studenti e le vostre studentesse ma anche proprio alla scuola e alle famiglie e non solo quindi vediamo un po' che cosa vanno a fare questi ragazzi e queste ragazze le metodologie utilizzate sono il brainstorming guidato quindi un po' quello che abbiamo fatto insieme in maniera virtuale prima quindi questa tempesta di idee l'icebreaker che è già stato nominato in precedenza da Rebecca che è questo strumento che viene utilizzato io so che appunto questa formazione è rivolta alle classi quarte ma l'icebreaker e quindi probabilmente i ragazzi e i ragazzi e i bambini e i bambini già si conoscono perché hanno fatto insomma tre anni insieme ma l'icebreaker non ha solo una funzionalità di farsi conoscere ma anche proprio di andare a rompere cioè rompe il ghiaccio rompe qualcosa in questo caso vogliamo che rompa un po' l'assetto della classe frontale per andare a creare una dimensione diversa di gruppo e lo stare insieme all'interno della classe e discutere in maniera diversa di alcune tematiche quindi in questo caso ci servirà per non dico distrarre bambini e bambini ma per provare a distrarli dal fatto che sono a scuola in classe e portarli in un'altra dimensione il role play è il gioco di ruolo quindi anche qui proveranno a svestire i loro panni e a vestire invece i panni di un'altra persona che vive un'altra condizione come? Lo scopriamo tra poco quali strumenti ci servono? qui avete un po' un riassunto insomma cancelleria, fogli bianchi, matite, forbici e profilo e storia di dipica e un orologio questi troverete sono tutti degli allegati che abbiamo preparato e troverete sempre con i moduli spazi e setting questa attività si può svolgere ovunque quindi sia in classe o anche all'aperto, in palestra insomma dove preferite l'importante è che i bambini e i bambini possano disporsi sempre in cerchio ma avete capito dopo anche l'esposizione delle mie colleghe che a noi piace molto che loro si trovino in questa condizione destrutturata che consente loro di avere la possibilità di parlarsi in un modo diverso e anche guardarsi in un modo diverso perché in cerchio riescono a guardarsi negli occhi e di solito invece in classe sono un po' uno dietro l'altro a file e anche di interagire con voi in una maniera diversa che cosa succede in questa attività che dura circa 25 minuti nella fase 1 quindi dopo aver fatto l'icebreaker che in questo caso è il vento soffia leggerete poi la descrizione insomma nella scheda consegnerete a bambini e bambini questo orologio questa scheda quindi c'è proprio come è fatto l'orologio per cui un cerchio con degli spicchi a ogni spicchio corrisponde un'ora del giorno e loro cosa dovranno fare? dovranno segnare per ogni ora che cosa fanno quindi non lo so a luna spero che dormano insomma sono piccoli e piccoli quindi dormiranno alle 2, alle 3, alle 7 c'è la sveglia che suona insomma compileranno un po' e verrà fuori quella che è la loro giornata tipo nella fase 2 ciascuno e ciascuna quindi la fase 1 è più un lavoro individuale quindi ognuno ognuna ragionerà su quella che è la propria routine nella fase 2 presenteranno la loro giornata tipo ai compagni e le compagne tendenzialmente sarà più o meno uguale quello che fanno però magari cominceranno a esserci già delle differenze tra i vari orologi potete insomma stimolare la loro la riflessione insieme attraverso delle domande guida che abbiamo sempre segnato nella scheda nella fase 3 che cosa succede? ognuno ognuna ha il suo orologio si sono confrontati e confrontati adesso è il momento un po' di mettere in discussione anche l'orologio e uscire un po' da quella che è la nostra routine e la nostra quotidianità per capire che cosa succede nel mondo per cui si utilizza una storia quindi anche diciamo la metodologia del gioco di ruolo attraverso la storia di Dipika che è questa bambina che non è europea vive in un'altra parte del mondo e per introdurre un po' la storia di Dipika potete insomma chiedere loro magari di sedersi per terra di chiudere gli occhi di immaginare un certo tipo di ambiente con certe caratteristiche per esempio l'Oriente quindi da cose caratterizzato chiedere anche a loro come si immaginano questo luogo e poi leggere voi o come è stato detto prima far leggere una frase a ciascuno ciascuna di questa di questa storia di Dipika una volta terminato il racconto che è molto breve cosa dovranno fare i bambini e i bambini costruire l'orologio di Dipika quindi che cosa fa Dipika nella sua vita in queste ore del giorno quindi costruire la sua giornata tipo secondo le informazioni che vengono dette nella storia nell'ultima fase c'è ovviamente il confronto tra gli orologi di bambini e bambini e quello di Dipika quindi c'è sempre questa questa tentativo di stimolare un po' la loro riflessione rispetto alla vita di questa di questa bambina e la loro ovviamente non avendo un approccio paternalista è semplicemente un modo per riflettere insieme su quali possono essere le differenze e perché e se ci sono delle differenze quindi le domande per esempio sono Dipika va a scuola ogni giorno per quante ore oppure quante volte al giorno mangia quante ore del giorno dedica al gioco allo svago altre attività magari sportive che differenze ci sono con la con la vostra giornata va insomma tutte andare a scuola secondo voi è un diritto di tutte e tutti in questa storia i diritti di Dipika sono garantiti proprio per provare un attimo a riflettere insieme come chiusura dell'attività quindi si chiede a bambini e bambini di fare un riassunto di quello che è stato fatto un po' del viaggio che hanno fatto all'interno di questa diciamo del diritto all'istruzione e anche di esprimere liberamente quelle che sono state le loro sensazioni rispetto a ragionare sulla mia routine confrontarla con quella dei miei compagni e con una bambina che posso essere io ma che vive in un altro contesto quindi sempre nel corso della riflessione cercate anche di andare a sottolineare quello che è il potere trasformativo dell'andare a scuola e dell'importanza che questa cosa ha non solo per il singolo individuo ma l'intera comunità questa frase ritorna sempre perché all'interno della storia è molto importante ed emerge in maniera molto molto forte quindi questa è un po' la prima attività che abbiamo pensato la seconda che fa parte del modulo di consolidamento va un po' anche a stimolare quella che è la partecipazione attiva dei bambini e delle bambine quindi richiede anche un'attivazione loro non si ferma soltanto all'interno della classe della loro riflessione rispetto al tema del diritto all'istruzione e l'istruzione di qualità ma cerca di andare un po' a coinvolgere anche gli altri attori ed attrici della comunità educante che sono appunto le famiglie e anche le altre persone che attraversano lo spazio scolastico quindi sempre attraverso un'attività giocosa i bambini e le bambine andranno a identificare quelli che sono gli elementi utili al raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile numero 4 quindi istruzione di qualità e proveranno a capire appunto come in prima persona possono attivare per raggiungere questi traguardi che sono posti dall'agenda di sviluppo sostenibile e quindi a raccontare ad altre persone come si fa a garantire un'istruzione di qualità coinvolgendo sia i loro compagni e le compagne di altre classi ma anche appunto insegnanti della scuola e genitori obiettivi di apprendimento in questo caso sono comprendere quelle che sono le difficoltà che impediscono a tutti e tutti di avere un accesso all'istruzione di qualità quindi sempre un po' relativi alla storia precedente e apprendere le modalità di confronto critico e costruttivo tra pari sempre con gli adulti di riferimento che siete voi o anche appunto genitori e altre persone che attraversano lo spazio scolastico anche in questo caso brainstorming di gruppo cooperative learning che è stato appunto spiegato in maniera molto puntuale da Rebecca e anche in questo caso ritorna il disegno creativo strumenti materiali risorse insomma appunto scatolone poi capiamo insieme perché è uno scatolone foglie a quattro pennarelli riviste scotch forbice cartelloni la lim se ce l'avete oppure lo schermo in classe e foto fornite sempre in allegato alla nostra scheda questa attività si può svolgere sia in classe in qualsiasi spazio che appunto dia la possibilità a bambine e bambine di mettersi in cerchio e poter lavorare insieme in gruppo che cosa fanno in questa attività molto utile prima di iniziare con questa attività di consolidamento è sicuramente fare un breve riassunto di quello che è stato fatto nella puntata precedente magari appunto chiedendo a loro di fare questa cosa perché appunto si vanno un po' a ricordare quelli che sono i punti principali dell'attività rispetto al diritto all'istruzione in questo caso si va più a fondo sull'SG numero 4 come noi abbiamo identificato alcuni video quindi insomma insieme fare un po' un overview di quello che è l'SG numero 4 e cosa ci è richiesto fare come cittadini e cittadini per raggiungere quell'obiettivo nella seconda fase si chiede proprio un'attivazione di bambini e bambini quindi si pensa all'obiettivo numero 4 come se fosse un piatto quindi bambini e bambini sono dei cuochi e delle cuoche che devono identificare quella che è la ricetta vincente per raggiungere l'obiettivo numero 4 quindi c'è sempre una prima fase individuale in cui ciascuno e ciascuna identifica tre ingredienti li disegna e poi li va a mettere in questo scatolone che idealmente è il nostro pentolone se volete potete usare uno scatolone o anche una pentola vera e propria se volete portarla a scuola in cui poi ciascuno e ciascuna metterà i suoi ingredienti che possono essere il più creativo possibile qui sono sicura che loro ci stupiranno sempre con effetti speciali circa gli ingredienti due terzi di un cucchiaino di insomma le misure che preferiscono quindi alla fine ci sarà questo pentolone o questa scatola piena dei loro ingredienti che verranno poi amalgamati e successivamente nella fase 3 vengono estratti o da loro o da voi insomma poi vi accordate e si cerca di mettere insieme quelli che sono simili l'obiettivo finale è quello di scrivere un'unica ricetta dell'SDG4 quindi dell'istruzione di qualità proprio come se fosse una ricetta su un grande cartellone tutta colorata utilizzando pezzi di riviste pennarelli tempere insomma nella maniera più creativa possibile quindi poi una volta che c'è questa bellissima ricetta scritta nel migliore dei modi bambini e bambini rifletteranno su che cosa può fare ciascuno o ciascuna di noi per il ragionamento degli obiettivi posti dall'SDG4 cosa si può fare in classe cosa si può fare a scuola cosa possono fare a casa con le loro famiglie e cosa si può fare nel quartiere intorno alla scuola per stimolare ovviamente la riflessione e la discussione potete mostrare anche delle foto che abbiamo sempre allegato alla scheda attività che mostrano alcune scuole di studenti e studentesse supportati da Action Aid insomma in comunità fragili che possono essere proprio uno spunto di riflessione ovviamente anche qui come è stato detto in precedenza noi abbiamo dato delle linee guida poi voi sicuramente conoscete molto meglio i vostri studenti e le vostre studentesse e sapete qual è la maniera più efficace per farle farle lavorare al meglio e farle farle riflettere rispetto a questo tema come chiusura si chiede a bambini e bambini di provare ad identificare proprio per andare a stimolare quella che è un po' l'attivazione e anche la partecipazione di cui ci ha parlato Rebecca in precedenza identificare un momento in cui vogliono presentare il loro lavoro e la loro riflessione rispetto al diritto all'istruzione all'interno della scuola quindi iniziare a capire dove vogliono appendere questo cartellone se nella loro classe se vogliono appenderlo in corridoio se fuori dalla presidenza se fare una foto e metterla sul sito della scuola insomma dove secondo loro è più visibile e più efficace e appunto capire anche in quale contesto loro possano presentarlo alla comunità educante all'interno della quale la scuola è inserita e la loro classe è inserita e poi ovviamente appunto possono affinare questa ricetta questo cartellone come meglio credono abbellirla con foto disegni o contributi anche da parte magari di altre compagni e compagni quindi questo è un po' quello che abbiamo pensato rispetto al diritto all'istruzione non so se ci siano delle domande intanto interrompo la condivisione perché anche io devo cambiare presentazione vedo nella chat alcune notifiche ma forse ok altre parole della nuvola poi ve la ve la condivido ok allora se non ci sono domande rispetto al diritto all'istruzione direi che possiamo passare all'ultimo modulo di questa di questa giornata insieme aspettate che mi sto perdendo anch'io ok ok allora via di altra presentazione cambiamo anche i colori cambiamo cambiamo tutto però purtroppo io non cambio mi dovete sopportare ancora per un po' allora principio di non discriminazione sempre come è stato detto in apertura è uno dei principi fondamentali come detto appunto nella sessione dedicata alla convenzione dei diritti sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che va a sancire proprio questo principio cioè tutti i diritti diciamo affermati dalla CRC si applicano a tutti i bambini e tutte le bambine i ragazzi e le ragazze senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza colore sesso lingua religione opinione politica o altro quindi questo questo principio viene sancito proprio dalla CRC in tutto il mondo però sappiamo che la povertà e le ingiustizie colpiscono le donne anche prima ne abbiamo parlato in modo sproporzionato a causa di squilibri di potere e pregiudizi che superano quelli che sono i confini geografici cioè non si tratta solo di situazioni che avvengono nel sud del mondo in alcune aree del mondo ma proprio sono trasversali ovunque è così e quindi possiamo dedurre che la parità di genere non è soltanto un diritto umano fondamentale ma è una condizione necessaria per garantire un mondo prospero che è anche sostenibile e in pace vediamo la prossima slide quindi ecco qui questi sono alcuni spunti che sono necessari per poter affrontare questi due moduli quindi possiamo dirci che anche l'agenda 20-30 con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile ci dà l'SDG numero 5 che garantisce alle donne e alle ragazze parità di accesso all'istruzione quindi si collega trasversalmente al discorso che abbiamo fatto prima alle cure mediche è un lavoro dignitoso così come alla rappresentanza nei processi decisionali politici ed economici quindi appunto lavora l'SDG 5 anche a diciamo a garantire alle donne e alle ragazze la parità di accesso a alcuni dei servizi fondamentali quindi a non contribuire alla discriminazione ci sono appunto altri diciamo elementi legislativi che contribuiscono alla creazione di questa cornice dentro la quale queste attività sono state costruite una di queste sicuramente è la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica anche detta per gli amici e le amiche convenzioni di Istanbul che attribuisce alle scuole quindi anche a chi le attraversa e le vive ogni giorno un ruolo cruciale nella promozione di quella che è la parità fra sessi i ruoli di genere non stereotipati il rispetto reciproco e la soluzione non violenta dei conflitti quindi insomma la responsabilità che viene data alla scuola rispetto a questo tema è decisamente importante un altro diciamo strumento che è importante da considerare di cui dobbiamo tenere conto è sicuramente la CEDAO che afferma che gli stati membri delle Nazioni Unite abbiano degli obblighi nello smantellamento e nella decostruzione degli stereotipi di genere quindi gli stereotipi sono una delle cause una perché ricordiamoci che sono tante ma una delle principali sono causa appunto culturale delle diseguaglianze tra donne e uomini in tutti gli ambiti della vita sia pubblica che privata per cui io adesso di nuovo perché voglio farmi odiare fino in fondo vi chiedo questa volta di utilizzare Mentimeter e questo fantastico codice che vi copio sempre in chat codice nuovo 43 90 75 59 perché stiamo parlando di stereotipi di genere pensiamo tutti di sapere che cos'è uno stereotipo e in particolare che cos'è uno stereotipo di genere io sono certa del fatto che voi abbiate dentro di voi questa conoscenza ma la voglio testare voglio testarla e quindi adesso interrompo la condivisione nuovamente il sito è sempre menti.com ok intanto ammiro nuovamente la precedente nuvola di parole che mi ha dato un sacco di soddisfazione ma sono certa che anche questa non sarà da meno allora vediamo quindi vi chiedo questa nuova nuvola che cosa vi viene in mente sentendo stereotipo di genere vediamo muro e qui partiamo già benissimo superarlo mi sembra mi sembra giusto in educazione è sempre difficile qua perché noi parliamo e siamo convinti di sapere cos'è uno stereotipo nel momento in cui dobbiamo piegarlo siamo sempre un po' in difficoltà ma siamo qua apposta quindi l'intelligenza collettiva ci aiuterà a trovare una definizione che può piacerci sicuramente che ci allinea tutte e tutti sulla stessa onda falso giudizio donna come proprietà rispetto ineducazione ostacolo passato falso giudizio superamento limite ostacolo effettivamente esclusione chiusura è diciamo una tra le parole più in grande perché si vede che molte molti la state utilizzando allora intanto come sempre adesso di nuovo vi tolgo questa gioia di vedere le parole che si che appaiono e si mescolano che è sempre la cosa che mi diverte maggiormente ritorno sulla presentazione ce la possiamo fare ok allora intanto aspettate che anche in chat secondo me sono arrivate delle parole chiusura ok sicuramente gli stereotipi ci aiutano a ragionare cioè la nostra mente ragiona per scompartimenti stagni ma è proprio cioè non è che siamo stupidi e stupide è proprio il nostro cervello che ragiona così per comodità quindi siamo abituati a catalogare il problema è che questa catalogazione ci crea delle difficoltà stereotipo appunto questa definizione è visione generalizzata o preconcetto sugli attributi o caratteristiche che sono o dovrebbero essere possedute dai membri di un particolare gruppo sociale o i ruoli che sono o dovrebbero essere svolti dai membri di un particolare gruppo sociale quindi sono delle convenzioni delle cose che vengono tramandate e che vengono attribuite appunto a una persona che ha un determinato ruolo all'interno di un gruppo aggiungiamo una parola genere lo stereotipo di genere è una visione generalizzata o preconcetto sugli attributi o sulle caratteristiche che sono o dovrebbero essere possedute da donne e uomini o sui ruoli che sono o dovrebbero essere svolti da uomini e donne la nostra mente poraccia è abituata a ragionare così a scompartimenti stagni quindi uomo una serie di caratteristiche donna una serie di caratteristiche e per carità questo è il nostro modo di ragionare ma la cosa che non sappiamo anzi sappiamo perché purtroppo gli effetti degli stereotipi di genere sono enormi e spesso irreversibili anche molto pericolosi condizionano quella che è la nostra vita e il nostro modo di essere all'interno di una società se io sono una donna vuol dire che devo fare tutte queste cose decise da non si sa chi no si sa dalla società e da un certo tipo di struttura che va assolutamente ribaltata quindi le attività che abbiamo pensato hanno proprio questa funzione cioè di andare a spaccare quelli che sono gli stereotipi di genere a cui siamo abituati e abituati e nei quali siamo immersi e immerse perché si nutrono della nostra quotidianità e si manifestano nella realtà che ci circonda ovunque per strada al lavoro e anche a scuola quindi iniziare a parlarne a tutte le età per cui perché no anche coi bambini e le bambine significa ammettere che sono un problema che ci riguarda e che non sono un problema lontanissimo che dovremo affrontare tra un sacco di anni tra un sacco di tempo quando sarete cresciute e cresciuti no è una cosa che dobbiamo affrontare subito perché ci condizionano subito da quando veniamo al mondo e quindi per capire bene di cosa si tratta abbiamo bisogno di sapere che cosa sono per cui queste due definizioni già ci danno una strada lo stereotipare quindi è la pratica a cui tutti e tutti anch'io 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 lo faccio quindi anch'io sono colpevole di attribuire a un singolo uomo o una singola donna attributi e caratteristiche o ruoli specifici quindi uno stereotipo di genere è una credenza una convinzione che ci può indurre a fare delle ipotesi sui membri di un gruppo che non sono necessariamente vere anzi a maggior parte delle volte non lo sono quindi vediamo qui appunto ritorna la nostra cedao che o di sviluppare quelle che sono le capacità personali perché se io sono una donna e mi dicono no guarda tu non puoi farla la scienziata e io magari ci credo e non la faccio anche se potrei essere super brava e lo stesso anche al contrario tu sei un uomo e non puoi farlo il ballerino magari io sono il nuovo bolle che ne sappiamo o anche no ma voglio fare questa cosa e quindi la faccio quindi per seguire la propria carriera professionale fare delle scelte sulle loro vite i loro progetti di vita la natura degli obblighi degli stati membri è quindi stata dettagliata anche nella giurisprudenza e nelle raccomandazioni del trattato quindi gli obblighi sono revisione dei libri di testo e questa è una cosa che vi riguarda che ci riguarda assicurare che insegnanti quindi voi riceviate una formazione inerente alle tematiche di genere e vediamo se questa cosa accadrà e verrà disciplinata sempre di più attuazione di programmi per incoraggiare ragazzi e ragazze a perseguire l'istruzione e l'occupazione in settori non tradizionali quindi quello che dicevamo prima anche il fantastico MIUR ha fatto questo piano nazionale per l'educazione al rispetto che è uno strumento fondamentale immagino che voi siate a conoscenza assolutamente di questo strumento per promuovere la parità di genere e un'educazione che è trasversale sul tema che cosa ci dice questo piano quindi si promuove nelle scuole si promuovono nelle scuole una serie di azioni educative sempre per la parità fra i sessi la prevenzione alla violenza di genere che è una delle conseguenze purtroppo degli stereotipi di genere e non solo e di tutte le forme di discriminazione tra cui anche la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e del bullismo e immagino che voi siate super sul pezzo rispetto a questi due temi ma c'è anche appunto la violenza di genere che non c'entra niente col bullismo e il cyberbullismo fanno parte del piano quindi le linee guida nazionali di educazione al rispetto e le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo nelle scuole e questo penso sia pane quotidiano per voi quindi andrei avanti qui ci sono sempre dei riferimenti bibliografici con alcuni dati che ovviamente poi si aggiornano di anno in anno noi abbiamo preso come riferimento la vedete nel terzo ultimo punto Irene Biemmi questa ricercatrice che ha fatto appunto diverse ricerche rispetto al linguaggio all'interno dei libri di testo e in particolare si è focalizzata anche sugli aggettivi che vengono attribuiti a bambine e bambini infatti una delle attività che andremo a proporvi è proprio su questo ragiona un po' sugli aggettivi nello sport e che vengono appunto attribuiti a bambine e bambini provate a pensare a quando diciamo questa bambina è educata posata gentile e invece bambino discolo iperattivo cioè gli aggettivi che scegliamo vanno a definire quella che è un'immagine ma in realtà è stereotipata quindi se volete approfondire anche lei ha scritto diversi saggi rispetto a questo tema molto interessanti ma andiamo a vedere queste fantastiche attività legate a questo tema allora la prima attività che è contenuta nel modulo base aiuterà appunto a far riflettere i bambini e le bambine rispetto alle immagini e i significati che istintivamente noi associamo alle parole uomo e donna inducendoli a pensare appunto a quali ruoli ci aspettiamo che svolgano nella società e quindi anche nella famiglia se sono frutto di scelte libere o condizionate quindi stereotipi che sono impliciti ed espliciti e che limitano tutt'oggi e lo sappiamo molto bene il raggiungimento della parità di genere quindi quali sono gli obiettivi di apprendimento chiaramente sensibilizzare sulle diverse forme e caratteristiche degli stereotipi della violenza di genere ovviamente in maniera magari non evidente ma un ragionamento che si può fare perché chiaramente teniamo conto anche dell'età dei bambini e le bambine ma iniziare a parlare un po' di questo tema per poi ovviamente mettere quel seme e far sì che con le competenze anche che raggiungono nel corso degli anni dell'istruzione possano creare un pensiero critico anche rispetto proprio al tema della violenza di genere iniziare a introdurre un po' questo tema degli stereotipi e gli stereotipi di genere legati proprio alle credenze rispetto a quello che è attribuito alla donna e all'uomo e andare anche a comprendere quella che è la manifestazione di privilegio e di disuguaglianza quindi che cavolo gli facciamo fare a questi bambini e queste bambine allora metodologia utilizzata diciamo che abbiamo deciso di sviluppare due opzioni una che implica più il movimento e un'altra che è più di riflessione però il tema è sempre lo stesso cioè si ragiona sempre su gli stereotipi di genere quindi la prima ovviamente quando si propone un'attività bisogna sempre tenere conto del gruppo di lavoro con cui si ha a che fare torno a dire che noi abbiamo dato una struttura chi conosce i bambini e le bambine siete assolutamente voi quindi sapete quale può essere l'attività più efficace per farli interiorizzare il tema quindi la prima l'opzione uno è un'attività che si avvale dello sport per far passare questo messaggio quindi attraverso questa attività sportiva analizzeranno un po' le dinamiche personali di gruppo che un'attività di movimento ci implica a fare e rifletteranno sempre in circle time perché ormai lo sapete che ci piace che si confrontino in cerchio ad strutturare eventuali stereotipi legati al genere strumenti o materiali noi abbiamo creato questa scheda questo percorso che loro dovranno realizzare molto semplice in realtà non è niente di complesso poi voi potete modificarlo a seconda di come vi piace e l'attività si svolge appunto all'aperto in uno spazio chiuso che permette appunto di muoversi in sicurezza cioè la classe forse non è il luogo migliore se avete una palestra la possibilità di andare anche in cortile secondo me si può fare quindi vi deve consentire di disegnare per terra o di utilizzare anche di cerchia sono solo il materiale che dispone la scuola per il percorso quindi cosa succede bisogna come già detto prestare attenzione alle diverse abilità del gruppo e le caratteristiche della classe in modo che nessuno e nessuna si senta escluso escluso dall'attività o forzato o forzata a fare qualcosa che non si sente di fare per qualsiasi motivo voi appunto avete dalla vostra il fatto che li e le conoscete quindi scegliere la modalità in cui svolgere il tracciato individuare diversi ruoli all'interno delle squadre perché proprio appunto chiaramente essendo un percorso dovranno essere divisi e divise in due squadre andiamo a vedere le fasi fase 1 spiegazione del gioco riflessione sulle abilità richieste quindi c'è un tratto in cui si deve correre ci sono ostacoli capitano o capitana lasciate che le tre squadre ovviamente noi abbiamo messo tre ma poi dipende un po' dal numero di bambini e bambini che compongono la vostra classe lasciate che ogni squadra decida il suo capitano o la sua capitana voi limitatevi a osservare quello che succede senza giudicare non dite ah però non va bene che sono tutti i maschi capitani quella è una riflessione che si farà eventualmente alla fine del gioco quindi vedete un po' loro come si comportano che cosa scelgono in maniera naturale fase 2 partono col gioco quindi voi avete una funzione soltanto di osservatore osservatrici quindi annotate tutto quello che succede sia che incitano più i maschi o le femmine tu sei lenta tu sei no insomma vedete un po' come si comportano all'interno del gioco e segnate ovviamente i tempi di ogni squadra quindi quanto ci mette un singolo gruppo a fare il percorso fase 3 chiedete a bambini e bambini di comporre delle nuove squadre e decidete magari delle nuove regole per disciplinare la nuova sfida per esempio vince non solo chi fa il percorso tutè ma chi ha il nome della squadra più bello o fa il tifo più bello incita a migli compagni trova una maniera creativa per fare il percorso insomma decidete insieme delle nuove regole la fase di valutazione quindi alla fine della seconda manche diciamo di questa di questa prova fisica chiedete alla classe di disporsi in cerchio sempre e aprire il confronto favorendo il dialogo e inclusione di tutte e tutti ne abbiamo messo alcune domande guida che vi aiuteranno insomma a stimolare la loro riflessione quindi tornare sempre un po' allora è andata meglio la prima fase o la seconda è andata meglio lei o lui come capitano perché avete scelto lui o lei perché è proprio perché è un maschio perché è una insomma provate un po' a capire a captare attraverso anche le domande che abbiamo inserito qual è il mood qual è il sentimento dei bambini e bambine rispetto a questa attività in chiusura quindi chiedete loro di fare un breve riassunto delle attività svolte e provate a spiegare un po' che cosa sono gli stereotipi e chiedete alla classe di condividere magari alcuni esempi che verranno poi approfonditi nel modulo successivo quindi perché avete pensato non so che una femmina potesse essere troppo lenta invece non è stato così o magari anche loro si sono stupite stupiti di qualcuno qualcuna in particolare quindi raccogliete un po' tutte queste loro sensazioni e poi insieme provate a ragionare su questi stereotipi magari anche all'interno dello sport o degli ambiti che loro vivono o anche cose che hanno sentito magari in televisione o che hanno letto che gli hanno raccontato quindi questa è un po' la prima opzione opzione 2 in questa attività bambini e bambini sfideranno gli stereotipi di genere e in molti modi in cui possiamo identificarci o decostruirli elencheranno alcuni stereotipi di genere comuni per le bambine e i bambini e impareranno come tutti e tutti loro possano decidere da sole e da soli cosa gli piace fare e cosa vogliono fare da grandi cosa ci serve quindi un cartellone pennarelli fogli di carta pennarelli colorati e matite l'attività si può svolgere ovunque perché chiaramente non implica un movimento esagerato come l'opzione 2 e che cosa succede la classe deve riflettere sui propri gusti e sui propri interessi quindi questo servirà poi per fare un brainstorming di nuovo torna la tecnica delle parole e dell'emersione sugli stereotipi di genere e se riescono a identificarsi o meno e quali vorrebbero invece decostruire cioè quali sono quelli che gli danno fastidio perché già secondo me ci sono delle cose che li fanno sentire e le fanno sentire limitate e limitati quindi loro dovranno elencare queste caratteristiche associate a bambini e bambini tenendo conto magari di alcune di alcuni suggerimenti tipo attività preferite dei bambini attività preferite delle bambine colori che si associano a bambini colori che si associano a bambine e che cosa vogliono fare da grandi cioè cosa può fare una bambina da grande cosa può fare un bambino da grande vediamo poi per fasi quindi la fase 1 richiede la definizione di stereotipo hanno già sentito questa parola? se sì chiedete di fare un esempio perché poi come prima ci troviamo che magari è difficile identificarlo se non riescono ad arrivare a una definizione comune provate a suggerirla a voi e scrivetela o su un cartellone o sulla lavagna quindi la definizione è idea semplice che molte persone associano a un grande gruppo di persone che non è vera per tutti i membri di quel gruppo molto semplificata fase 2 che può essere svolta come gruppo classe o divise in gruppetti chiedete a ciascun gruppo o a tutta la classe di identificare appunto una serie di stereotipi per bambini e bambini se necessario date loro appunto degli esempi legati all'attività come ci siamo detti ai colori e alle professioni quindi che ne so colori bambino blu bambina rosa stereotipo fase 3 sulla base di come è stata svolta l'attività fate una restituzione con tutta la classe quindi se è stata in gruppetti significa che ciascun gruppo identifica un o una rappresentante che espone le due liste sostanzialmente stereotipi per bambino stereotipi per bambino se è stata fatta di gruppo qualcuno qualcuna racconterà a quello che è emerso da tutta la classe quindi l'obiettivo è arrivare a un elenco unico di stereotipi che riguardano bambini e bambini per cui ovviamente è più bello se è fatta in gruppetti perché così si devono accordare anche tra loro su quelli che sono i più importanti o quelli che vogliono segnare e poi si riflette insieme se loro si identificano in questi stereotipi cioè io li ho vissuti sulla mia pelle me l'hanno mai detta questa cosa e perché oppure si riconoscono cioè sì io mi riconosco in questo e poi spiegare a tutte e tutti se se la sentono sempre perché nella parte di nella fase di valutazione chiedete alla classe di sporsi sempre in cerchio quindi questo momento di dibattito è bello che sia fatto in cerchio in un contesto destrutturato perché favorisce appunto il dialogo e anche l'inclusione un po' di tutte e di tutti cercando sempre di mantenere un clima non giudicante io penso questo tu pensi quello magari sono due pareri completamente diversi ma non è che il tuo ha più valore del mio o viceversa e se è discordante proviamo a capire perché insieme quindi noi abbiamo sempre creato una serie di domande guida che possono essere utili poi alla discussione però lasciate che siano magari anche proprio loro se vedete che la discussione prende il volo lasciatela gestire magari proprio anche tra di loro per vedere che cosa emerge nella fase di chiusura chiedete appunto di fare sempre un riassunto di quello che è successo e nuovamente mettete un po' i punti su quella che è la definizione di stereotipo e stereotipo di genere e chiedere a loro magari di fare proprio degli esempi concreti anche di non proprio legati alle tre categorie su cui le avete le avete fatte riflettere ma magari altre cose che emergeranno anche in seguito alla discussione fatta di gruppo quindi queste le prime due opzioni nel modulo diciamo uno nel modulo di consolidamento sempre attraverso un gioco di collaborazione i bambini e le bambine proveranno a capire quali sono gli stereotipi ancora esistenti relativamente al linguaggio perché anche qui il linguaggio è molto importante come ci esprimiamo come raccontiamo le cose è estremamente importante sicuramente voi che insomma comunicate e trasferite il vostro sapere a ragazzi e ragazze attraverso la vostra parola sapete quanto pesa le parole che vengono utilizzate perché vengono ascoltate perché vengono ripetute insomma è molto importante come parliamo e come ci esprimiamo quindi gli obiettivi di apprendimento sono sensibilizzare i e le partecipanti quindi i bambini e i bambini su stereotipi e pregiudizi quindi si continua un po' questo lavoro stimolare proprio bambini e bambini a interrogarsi e mettere in discussione le caratteristiche che vengono attribuite a donne e uomini generalmente e quindi riflettere su in particolare gli stereotipi di genere nel mondo dello sport e sfidare anche quelle che sono le convinzioni sull'esistenza di sport maschili e femminili che mi auguro sempre che sia più superata nelle nuove generazioni vediamo che cosa gli chiediamo di fare la metodologia è l'approccio di leadership femminista reflection action e apprendimento cooperativo quindi si fa una cosa e si riflette insieme e apprendimento cooperativo quindi impariamo qualcosa lavorando tutte e tutti insieme strumenti e materiali che cosa ci serve una scheda in A3 che appunto è sempre allegata poi ve la faccio vedere perché l'ho messa alla fine delle slide e un occorrente sono le forbici con il loro astuccio sostanzialmente spazi e setting anche questa è un'attività che si può svolgere in aula l'importante è che ci sia lo spazio per far lavorare i ragazzi i bambini e i bambini in gruppi quindi magari si possono utilizzare i banchi oppure possono stare anche per terra insomma l'importante è che possano lavorare in gruppo e che abbiano un piano su cui possono disegnare quindi in apertura si fa una sintesi sempre degli apprendimenti condivisi che può essere fatta da voi o anche da ragazzi e ragazze se stesse bambini e bambini e poi si distribuisce questa scheda quindi nella fase 1 ragazzi bambini e bambini vengono divise e divisi in 4 gruppi anche qui dipende un po' dalla formazione della vostra classe quanti gruppi sono ciascun gruppo sceglie un aggettivo e personalizzerà la sagoma con delle caratteristiche accessorie dello sport corrispondente ci sono queste sagome e questo aggettivo sotto adesso ve lo faccio vedere che se non si capisce sembro pazza ok ecco qua quindi per esempio io scelgo forte come aggettivo proprio stereotipata alla grande questa scelta e devo disegnare insieme al mio gruppo la fisionomia proprio dell'omino cioè occhi bocca capelli vestiti e scegliere quale sport io voglio assegnare a questo aggettivo ovviamente sceglierò anche se il mio personaggio se questo mino è un uomo o una donna ritorno di qua fase 2 ciascun gruppo al termine della creazione dell'opera d'arte abbinata all'aggettivo e allo sport presenterà il proprio lavoro alla classe e per farlo sceglierà chiaramente uno o una portavoce quindi attenzione alle scelte stereotipate ma ovviamente anche questa cosa annotatela voi non ditegliela subito emergerà poi nella riflessione insieme quindi voi le fate esporre su un gruppo magari ci saranno dei commenti appunto si riflette insieme ci sono sempre le domande guida e nella fase di valutazione chiedete sempre alla classe di disporsi in cerchio e riprendete anche magari l'SDG numero 5 ci sono sempre dei video in cui poi si può approfondire quali sono le caratteristiche di questo obiettivo e quali sono le richieste fatte appunto che dobbiamo raggiungere nel 2030 e chiedete magari loro di condividere un aggettivo o una parola sottolineando l'uso stereotipato quindi riprendere anche un po' il concetto di stereotipo ovviamente nella prima fase di riflessione di gruppo che è tra la fase 2 e anche la fase 3 nel cerchio si fa un po' una riflessione sul perché è stato scelto quell'aggettivo perché è stato abbinato a quello sport perché è stato scelto un uomo o una donna se potrebbe essere il contrario se potrebbe essere un altro insomma provate un po' a ragionare insieme su anche le eventuali scelte stereotipate senza additare la singola persona o il singolo gruppo ma attenzionare un po' questo problema l'obiettivo è non accusarsi vicendevolmente ma andare a decostruire quello che è lo stereotipo appunto che è stato eventualmente individuato se sono bravissimi e bravissime vuol dire che il lavoro che stiamo facendo è assolutamente inutile e loro si preoccuperanno di diffondere questo messaggio ai loro pari e le loro pari e nella società insomma magari riusciranno a debellare tutta questa questo problema degli stereotipi di genere quindi per chiudere sempre in cerchio chiedete di raccogliere raccogliete insomma tutte le schede e raccogliete anche eventuali riflessioni che emergono dopo tutta l'attività e provate a pensare insieme a quelli che sono non soltanto gli stereotipi legati allo sport ma magari provate ad allargare un po' agli stereotipi che sono che vengono riscontrati all'interno dei ruoli della famiglia o appunto esempi del linguaggio le favole i cartoni animati insomma provate a estendere un po' il ragionamento a il mondo fuori dallo sport io interrompo la presentazione non so se ci sono delle domande rispetto a questo sì scusa io volevo fare una domanda sì prego allora spesso nelle classi a riferito a questo discorso si trovano dei bambini che è di un altro tipo di di religione che dove questi stereotipi soprattutto legati alle donne sono molto forti e non credo che lì sia tanto semplice smontare questo tipo di di stereotipo quindi in quel caso allora sicuramente una cosa che non abbiamo detto noi abbiamo analizzato la parola stereotipo ma non la parola genere anche a genere viene il genere è qualcosa che cambia nel tempo cioè quello che noi la convinzione che abbiamo noi di donna o uomo è sicuramente mutata nel corso del tempo e della storia ma non soltanto sulla linea temporale cambia anche appunto in base a dove siamo nel mondo quindi ovviamente le donne in Europa in Italia vivono in una determinata condizione in altri paesi vivono in un'altra io non mi spaventerei rispetto a questa cosa terrei sempre un ambiente che non è giudicante rispetto alle posizioni diverse e che non è paternalista ma semplicemente provare a tenere conto di quelle che sono anche le differenze senza stigmatizzare cioè non è che per forza è sbagliata quella cosa lì o accusare ma proprio mettere sul piatto cioè potrebbe essere anche questa un'occasione per capire quelle che sono le differenze esattamente ovviamente è difficile ma come ripeto voi avete dalla vostra il fatto che lì le conoscete quindi potete trovare anche la giusta maniera per introdurre il tema e anche farli e farle confrontare in questo senso ovviamente ci sono delle cose che tutte e tutti facciamo fatica a digerire rispetto alla condizione sia di uomini che ovviamente di donne l'obiettivo di questa attività è proprio provare anche a mettere in discussione perché a volte non è soltanto anche la cultura diversa o il paese di provenienza ma proprio anche all'interno della famiglia quindi ovviamente potrebbe esserci anche una tensione anche quando si compila per esempio l'orologio di prima a volte le situazioni sono diverse per diversi motivi appunto all'interno delle famiglie ed in particolare anche dei ruoli di genere all'interno del proprio nucleo quindi ovviamente è un argomento un po' delicato ma sono sicura che appunto voi avrete la sensibilità giusta per poterlo affrontare e se si crea il giusto clima anche tra di loro riescono un po' a equilibrare e a confrontarsi sulle differenze è interessante magari poterne parlare poter sentire le loro opinioni almeno in questo modo si può iniziare a formare questo pensiero critico che è importante insomma per poter affrontare la realtà assolutamente grazie grazie mille per questa domanda non so se ci sono altre domande dubbi anche rispetto magari all'esposizione insomma fatta dalle mie colleghe in precedenza magari vi è venuto in mente qualcosa altrimenti insomma noi abbiamo abbiamo finito con l'esposizione e la presentazione e lascerei insomma chiudere questo momento questo pomeriggio insieme penso che possiamo chiudere non so dalla libria può dare l'ok sì sì aspettavamo se c'era qualche domanda ma sembra di no c'è già stata una quindi sì vi ringraziamo grazie mille per la formazione per l'attenzione alle docenti delessanti di Grazie a tutti.